Buongiorno a tutti, grazie per essere venuti, grazie a chi è venuto fino a qui in presenza finalmente e a chi ci segue invece via streaming. Devo dire che non mi sorprende affatto l'interesse attorno a questo convegno dato che affronta un argomento caldissimo come sapete dal programma il super bonus, qualcosa che interessa migliaia di persone, migliaia di famiglie, migliaia di imprese migliaia di professionisti e che sembra finalmente ma poi ce lo diranno i numeri sia avviato anche se come dire un po' faticosamente. Però diciamo preparando questo convegno ho avvertito paradossalmente come dicevo un argomento caldo anche una grande freddezza, c'è un non dico un gelo però una diffidenza, una freddezza che si è sviluppata mese dopo mese che deriva dalle difficoltà nell'applicazione del super bonus. Difidenza che vede, come dire, non dico contrapposti però diciamo su due fronti diversi, chi si trova alle prese tutti i giorni con il proprio lavoro e quindi con l'applicazione del super bonus e chi invece diciamo è da parte istituzionale tenuto a far valere le regole. Questo ha provocato diciamo, come dire, non dico proprio due fronti contrapposti ma una così freddezza come dicevo prima che mi ha portato paradossalmente alla mente quello che è successo nel 1971 quando dopo vent'anni della rivoluzione comunista in Cina e con, come dire, i reciproci insulti per vent'anni tra Stati Uniti e Cina tutte e due, si è formato in silenzio, attenzione, tutte e due le potenze si sono rese conto che non potevano più andare avanti così, no? C'era bisogno di una cooperazione, di un dialogo allora cosa si inventarono? Si inventarono la diplomazia del ping pong organizzarono un torneo di ping pong che fu, come dire, il primo contatto ravvicinato tra i due mondi diversi. Ora, adesso facciamo le debite proporzioni non dico che questo convegno sia come la partita di ping pong però sicuramente vede l'opportunità di un confronto tra due mondi che a volte, come dire, fanno fatica a parlarsi e quindi è un'occasione veramente unica. Io, basta, con il mio sproloquio passo la parola ad Andrea Falsirollo, che è il presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Verona che, come sapete, è co-organizzatore della Fiera del Condominio. Allora, benvenuti a tutti alla Fiera, alla terza edizione di questa Fiera che ospita in questo momento l'evento più importante perché il condominio, come sapete, ormai si declina sostanzialmente attorno al super bonus, almeno da un anno a questa parte. Noi, insieme a Virginia Gambino Editore, organizziamo questo evento che fino all'anno scorso, non all'anno scorso, fino all'edizione precedente era organizzato in fiera, però per motivi, diciamo, della pandemia della pandemia abbiamo deciso a inizio anno di svolgerlo qui a Villa 40 un evento, come vedete, un po' ridotto in termini di eventi ma comunque molto più partecipato rispetto alle precedenti perché mano a mano che va avanti il tema del super bonus e quindi le edizioni della Fiera del Condominio acquisiamo sempre più interesse da parte degli stakeholder. Sono qui quindi a darvi il benvenuto a questa fiera sperando di ritrovarvi anche gli anni prossimi e adesso vi per annuncio che ci saranno comunque degli interventi molto interessanti, soprattutto relativi alle criticità e agli errori nella richiesta di incentivo ma probabilmente avremo anche da qualche nostro rappresentante in Parlamento qualche novità legata al futuro del super bonus speriamo una novità positiva non vi voglio preannunciare niente lascio la parola al moderatore e vediamo se riusciamo ad avere un loro intervento interessante grazie e buona giornata Io mi limito a passare la palla all'ingegner Matteo Limoni come dicevo all'inizio due mondi contrapposti ma anche un momento in cui ci possono essere delle proposte non soltanto criticità Certo, il convegno di oggi non è un convegno nozionistico su come accedere al super bonus che questo ormai già da un anno sappiamo quali sono le peculiarità di accesso ma vuole essere un convegno pratico e di chiarimento avendo appunto a disposizione dei funzionari di Enea e di Agenzia delle Entrate quali abbiamo posto delle domande io volevo fare innanzitutto dei saluti istituzionali doverosi e dei ringraziamenti alla Gambino Editore proprio per la collaborazione nell'organizzare la fiera del condominio l'ordine degli ingegneri nel suo consiglio nell'ingegnere Falsirolo come presidente perché hanno creduto all'iniziativa della fiera del condominio e di tutto il ciclo di convegni che c'è all'interno di questo grosso contenitore di informazioni proprio perché si vuole divulgare il più possibile chiarimenti e informazioni sulle ultime novità agli iscritti e a tutto il mondo delle professioni tecniche un ringraziamento a tutte le commissioni dell'ordine che hanno partecipato in particolar modo un ringraziamento ai coordinatori come l'ingegnere Alessandro Pisano della commissione ingegneri del condominio l'ingegnere Elena Mazzola della commissione impianti termotecnici l'ingegnere Giordano Contini della commissione energie ed efficienza e tutti i componenti di questa commissione che hanno collaborato fattivamente per la raccolta dei quesiti e delle proposte che verranno poi illustrate da questi stessi che ho nominato nelle successive relazioni e verranno poste proprio a Enea e agenzie delle entrate ringrazio anche gli altri relatori l'ingegnere Silvia Bonetti della consigliere di ingegneria sismica italiana il dottor Federico Della Puppa coordinatore scientifico del centro studio Utrade l'ingegnere Masini se c'è o il suo sostituto di Duferco Energia l'Ernesto De Rosa presidente nazionale di Assimea del Last but not the list appunto un ringraziamento va anche a Enea e agenzie delle entrate perché già nelle fasi preliminari e di preparazione del convegno hanno collaborato per cercare di rispondere a quelle domande che faremo oggi per coordinare al meglio l'evento quindi ringrazio proprio per la disponibilità di questi due enti inoltre ringrazio gli ordini professionali che hanno patrocinato questo evento e hanno anche consentito l'attribuzione dei crediti formativi ai loro iscritti ricordo l'ordine degli architetti di Verona il collegio dei geometri e geometri laureati di Verona l'ordine dei periti industriali e periti laureati di Verona l'ordine dei commercialisti e esperti contabili di Verona e che hanno appunto consentito l'attribuzione dei CFP come introduzione al convegno mi sento di evidenziare alcuni aspetti positivi e alcuni aspetti negativi dell'incentivo del super bonus anche per entrare nel tema e per scaldare un po' i motori Allora, faccio appello dobbiamo collegarci dobbiamo collegarci c'è poco tempo senz'altro io riprendo dopo senza nessun problema abbiamo in linea Alessia Rotta che è Presidente della Commissione Lavori Pubblici e Ambiente della Camera eccoci qua grazie per essere con noi allora io comincio con un assist facile qui parliamo del super bonus ci faccia, diciamo, ci sono state discussioni ci sono pareri, diciamo, differenti però, diciamo, unanimemente è riconosciuto che è stata un'iniziativa valida interessante può farci un bilancio del primo anno? intanto buon pomeriggio a tutti io ringrazio ringrazio anche l'ordine degli ingegneri di Verona per l'invito e per aver organizzato questo momento allora permettetemi noi abbiamo sostenuto da sempre e nei vari provvedimenti il cosiddetto super bonus 110 per le molte finalità io sono Presidente della Commissione Ambiente e lavori pubblici e quindi la finalità naturalmente energetica il contributo che può dare un migliore, diciamo, isolamento termico delle abitazioni lo sostengo perché porta come dimostrano anche i numeri e che citerò tra un secondo porta lavoro buon lavoro porta PIL perché anche questi dati sono dati noti che tra l'altro ha elaborato con un bel documento il centro studi dell'ordine degli ingegneri proprio ieri ho sentito il vostro Presidente come accade settimanalmente diciamo a Zambrano quindi buon lavoro e porta anche tasse per lo Stato quindi c'è un incoming su questo c'è tutto un dibattito cioè su quanto costa lo Stato se questa sia una misura che si autoripaga come io sostengo ma su questo sapete che non c'è una limità e soprattutto perché è una misura sociale per questo io sono molto felice di essere qui in particolare a parlare di condomini perché io credo che sia una misura che abbia un carattere un impatto che dovrebbe essere particolarmente dedicato ai condomini e soprattutto alla universalità della misura che cosa intendo dire essendo 110 superiore al costo stesso dell'intervento risorse necessarie per anche pagare il credito e poi la cessione del credito credo che questa sia una misura della quale dovrebbero prioritariamente in particolare approfittare e beneficiare diciamo così i condomini i condomini non solo ma anche appunto le residenze quindi oltre a i privati cittadini credo molto in questo senso diciamo di giustizia sociale e ambientale noi non faremo una transizione se non metteremo a bordo tutti se non consentiremo a tutti le stesse le stesse opportunità quindi ecco perché l'abbiamo sostenuta il bilancio il bilancio lo faccio io insieme ai tanti numeri che sono stati dati in questo in questo anno ha detto il presidente Buia qualche giorno fa presidente di Ance che sono state ridotte è stata ridotta la CO2 di 6.000 condomini in un anno normalmente i numeri erano invertiti in 6 anni quella forse di 1.000 condomini sono stati creati 153.000 posti di lavoro stiamo parlando di un settore importante non solo quello delle costruzioni ma ovviamente anche di quelli legati stiamo parlando di numeri di movimentazione di PIL particolarmente rilevante e qui appunto i numeri sono tanti e sono diversi ma si stima che a fronte appunto di 7,5 miliardi spesi ci sia una movimentazione di 10 miliardi e che anche gli introiti per quanto riguarda appunto il fisco siano particolarmente rilevanti ora qui non voglio entrare in una polemica perché gli studi in realtà si dividono su questo cioè ci sono studi molto autorevoli penso a quelli della LUIS che dicono che il bonus ampiamente si ripaga ma io credo che sia una misura necessaria e che è necessario ed è per questo che noi non solo ad ogni legge di bilancio come si chiama oggi l'ex legge finanziaria ma ad ogni provvedimento direi trasversalmente tutte le forze politiche lo chiedono voglio anche dire in questa sede perché è importante dal mio punto di vista che e qui le buone notizie che mi chiedeva il presidente Falsirollo io dico e ripeto quello che ha detto il ministro Franco i ministri dell'economia sono quelli che rispetto a questa misura diciamo sono i più attenti e le trattative continuano sono in corso la notizia buona è che nella nota di aggiornamento l'economia e finanza la cosiddetta Nadef è garantita la proroga fino al 2023 ora il ministro Franco ha anche detto che dal suo punto di vista questa misura è troppo costosa e soprattutto c'è il discorso delle detrazioni cioè che fino ad adesso sono previste per soli 46.000 interventi detrazioni fino a 8,2 miliardi e quindi c'è un tema che si deve diciamo mobilizzare nel medio periodo quantomeno non solo nel breve per quanto riguarda l'accessione del credito io però su questo voglio dire che noi dovremmo arrivare a ragione di questa di questi conti non si può viaggiare e sono d'accordo su questo non solo con le categorie con gli ordini con i quali dialogo diciamo con il Parlamento è stato costante perché noi abbiamo fatto un lavoro costante di come potremmo dire di cucitura ogni volta di messa in ordine perché io penso che i provvedimenti non siano buoni per sempre e così come sono scritti c'è bisogno cioè di un rammendo continuo quello che abbiamo fatto io credo in questo anno insieme a seguito di cicli di audizione a seguito di emendamenti abbiamo siamo andati a risolvere a provare a risolvere molte delle istanze che venivano presentate alla prova dei fatti cioè la prova della messa a terra di questa misura salutata da tutti come una misura espansiva quindi particolarmente positiva la verità la verità è che e non lo dico quella con la quale mi trovo appunto oggi a parlare sono state notifiche questa per me è l'occasione anche di ringraziare della fattiva collaborazione estremamente importante di Enea e di Agenzia delle Entrate che settimanalmente per non dire quotidianamente vengono coinvolti nel dialogo con noi con le istituzioni sotto forma di interrogazioni sotto forma di richieste di chiarimento sotto forma di emersione di problemi che poi noi cerchiamo di risolvere per andare per far sì che la norma sia effettiva perché nel nostro paese dobbiamo decidere se noi facciamo una norma noi pensiamo che la norma debba funzionare naturalmente e faccio riferimento a quello che il dottor Delelli diceva prima se c'è una freddezza tra chi deve fare rispettare le regole e chi invece dice ma io non riesco ad applicarlo oppure voglio voglio farlo certamente c'è stata non una faregenosità ma io comprendo questo equilibrio dell'equilibrio che dobbiamo trovare a fronte di tante risorse dello Stato e del tema centrale che ha la cessione del credito dove il meccanismo diciamo non è stato facile sin dall'inizio e non è semplice neanche adesso non dico l'erogazione ma trovare capacità di erogazione del credito un equilibrio tra quello che diciamo lo Stato chiede e le asseverazioni necessarie e però l'effettiva praticabilità dell'intervento dove un fattore da un mio punto di vista è che dovrebbe esserci nel nostro paese l'equità la possibilità diciamo di accedere da parte di tutti i cittadini sappiamo che naturalmente non è così perché a seconda se uno abita in una zona vincolata o non vincolata se uno poi abita a Brescia scusate ma con il terreno di riscaldamento tante problematiche che non sto qui a dire che credo saranno anche poi oggetto ma sicuramente un equilibrio tra credenziali che si chiedono ma anche facilità di applicazione della norma perché altrimenti noi facciamo una misura non perché non funzioni noi facciamo delle misure perché ci auguriamo che funzioni perché noi abbiamo bisogno estremo visto che gran parte o comunque quota parte del tema dell'inquinamento noi siamo anche in pianura padana per quanto riguarda la zona dove ci troviamo dove si trova il convegno dove viviamo in cui siamo in infrazione ben tre infrazioni per emissioni di polveri sottili e sappiamo quanto il tema casa e il tema abitazione possono contribuire positivamente quindi noi dobbiamo farlo il nostro patrimonio ed edilizio è vecchio c'era un settore che dal 2008 era gravemente in crisi ed andava non sussidiato aiutato a ripartire a ripartire con lavoro buono e la produzione di posti di lavoro buoni quindi io credo che bisogna sorreggere e far funzionare assolutamente la misura ed andare anche oltre cioè io questo voglio dire io penso che noi dobbiamo chiedere sia e soprattutto la proroga e anche orizzonti temporali certi io nel dialogo che ho ripeto settimanalmente con tutti gli ordini con tutte le professioni coinvolte c'è questo tema dell'orizzonte temporale che almeno si sappia per tempo se ci sarà un decalaggio quale sarà rispetto al 110 ma ovviamente in queste settimane siamo anche molto richiesti rispetto a che fine faranno gli altri bonus il seasonal bonus e il bonus facciato del 90% che pure hanno prodotto grandi risultati mi scusi non voglio interrovere però cerchiamo di fare un dibattito così anche l'ingegnere Falsirollo vuole apporre una domanda così cerchiamo di movimentare un po' sì onorevole una domanda intanto prendiamo atto che comunque cioè diamo atto che questa misura il super bonus sta aiutando notevolmente le categorie quelle economiche anche professionali e quindi bisogna darne atto che è una misura utile sappiamo che agenzia delle entrate Enea sono sottoposte a sollecitazioni anche da noi professionisti e imprese quindi sappiamo che sono diciamo disponibili ma sono anche molto impegnati nel rispondere a tutti sì volevo fare una domanda ma stava già rispondendo con quel suo intervento lei ha parlato di numeri di occupazione del nostro settore prendendo riferimento il presidente di Ance effettivamente sì c'è un maggior fermento c'è maggior occupazione c'è maggior interesse da parte delle categorie professionali e imprenditoriali purtroppo però avere misure che hanno una cadenza annuale e poi vengono ripristinate annualmente finché era il bonus 50% insomma era anche sopportabile questa situazione adesso avere un 110 che annualmente o ogni due anni viene ripresentato senza sapere se verrà prorogato o meno rende difficile non solo il lavoro ma anche creare una stabilità economica ai collaboratori che poi si sono adoperati a creare questo settore economico quindi è importante sapere sia la proroga come stava dicendo lei se e quando durerà e poi come verranno riorganizzati tutti i bonus che ci sono sul mercato si stava parlando di una rideterminazione di un allineamento quindi fare un unico bonus del 75 80% che comprendesse tutti i vari bonus insomma una o l'altra soluzione purché si abbia un orizzonte temporale in modo tale da garantire anche un'occupazione e una serie una serie diciamo edificazione di quello che è l'imprenditoria e la professionalità in questo settore altrimenti come in tanti casi e non li sto qua a citare ci sono quegli interventi a spot dati dalle normative che durano uno o due anni che non creano a formare ma solo a creare delle bolle che non servono nulla ecco questa era un po' la domanda quindi si può sapere adesso o è troppo prematuro sapere l'orizzonte temporale al di là del 2023 e del 2024 ma quello che ci potrebbe essere al di là del super bonus e come potrebbe essere rideterminato insomma se si ha già un'idea oppure se è troppo presto per parlarne allora sapere non si sa ma diciamo le parole anche di questo ministro dell'economia come del precedente che dicono sicuramente fino al 2023 ci inducono a fare una cosa proprio perché questo tema dell'ascolto non è mai terminato e il Parlamento ha voluto come ha nelle sue diciamo facoltà e soprattutto obblighi svolgere quell'attività io dico che siamo camera di compensazione di ascolto di riportare di stimolare il governo al miglioramento dei provvedimenti e in questo senso dico che noi sicuramente faremo come abbiamo fatto un'indagine conoscitiva per far emergere le grandi problematiche grandi e piccole che erano emerse lo stesso chiederemo questo cioè nel memoria della legge di bilancio che comunque traccerà come ogni legge di bilancio un orizzonte chiederemo che ci sia un'ordine cioè una mini diciamo indagine conoscitiva per capire a beneficio come diceva il presidente di tutti io direi i risultati in cui ci dobbiamo muovere perché non ci sfugge né quello che molto importante diceva cioè che oggi non si trova un ingegnere un architetto disponibile per nulla ma non si trova neanche o meglio c'è un fenomeno di bolla di prezzi su materie prime e non solo diciamo per non solo di energie non solo per effetto di alcuni mercati o per effetto diciamo di dazi eccetera ma perché ci possono essere delle intenti speculativi laddove non ci sono non si trova più un porteggio laddove i prezzi aumentano adesso non sto qui a dire l'avete viste molto bene anche voi che c'è un aumento dei prezzi in tutto ci può essere anche piena profitta ecco compito dello Stato è anche in questo senso non tanto regolare i prezzi ma far sì che questo non accada soprattutto con soldi pubblici che non servono a fare questo e quindi a consentire azioni speculative per non far sì che ci siano azioni speculative bisogna creare quell'orizzonte temporale e dare delle certezze e quindi quello che noi sicuramente ma io devo dire che siamo già al lavoro siamo in una fase ovviamente di discussione io e la presidente Martina Nardi che è presidente della decima commissione cioè la commissione dell'attività produttiva che sono quelle due coinvolte con diverse forze politiche e anche membri di governo siamo già al lavoro per studiare e poter vedere quelli che sono i diversi impatti non parlo se no poi non avevo capito che era un intervento non che c'erano dovevo fermarmi se no mi fermavo molto prima mi scuso ma lei si sente di assicurare che la prossima autunno anzi la prossima estate in vista delle elezioni non ci sia una gara in Parlamento a chi la spara più grossa con come dire le promesse di proroga del super bonus da qui all'eternità no ma allora se ci sarà devo dirle che in ogni provvedimento fino a qui prima della scorsa legge di dirancio in ogni provvedimento tutte le forze parlamentari giustamente hanno chiesto su istanza su istanza nel paese la proroga quindi fin lì va bene dopodiché io credo che ci dovrà essere ordine e l'ordine io credo dovrà farlo naturalmente nel dialogo del Parlamento le nuove forze politiche del Parlamento e il Governo per dare questo orizzonte temporale io credo che insomma sia una pistola salve dire che tutti prometteranno la proroga del 110 nel senso che se non è fatibile penso che sia più maturo ma come siamo maturi tutti anche intendo dire tutti i cittadini non solo tutti tutti i settori anche quelli coinvolti capire che naturalmente se si potesse io sostengo che sia una misura espansiva e che quindi nel medio termine la misura si riprende non c'è una limità su questo lo sapete nel senso lo leggiamo tutti i report c'è anche una discussione non ultima da un rapporto di Enea perché poi noi dobbiamo rendere conto di questi soldi di parte di questi soldi che sono nel piano nazionale di ripresa e resilienza alla Commissione europea che dicono che non ci sia l'efficacia massima nel 110 come c'erano in altre misure in altri bonus rispetto alla sua qualità ambientale cioè oltre a due classi energetiche che non abbia un grande impatto allora dovremmo prendere questo pacchetto di considerazioni diverse su diversi punti di vista e soprattutto poi decidere una strada che quella sia poi ovviamente se io dico questo che sarai per il 110 per un po' di anni proprio perché c'è bisogno di programmazione ma meglio che si finisce il 2023 e poi si fa un bonus strutturale 75% dico che la chiarezza è pregnante per l'organizzazione di tutti e anche per la correttezza dei prezzi e tutto quello che abbiamo sentito detto speriamo siano tutti d'accordo con lei prego sì allora grazie per averci chiarito quello che potrebbe essere le dinamiche future se c'è un auspicio che posso fare visto che noi ma anche gli enti come Enea e Agenzia delle Entrate hanno lavorato tantissimo per diciamo adeguarsi alla nuova normativa così anche noi è da due anni che praticamente sforniamo corsi e convegni solo sul super bonus ecco se le prossime normative le fate un po' simili tra loro perché altrimenti diventa difficile poi adeguarci ma questo non solo per noi professionisti e aziende ma anche per per gli addetti ai lavori da parte da parte dello Stato che devono dare risposte devono dare interpretazioni diciamo che questo ci dà un impegno veramente gravoso nel gestire il nostro lavoro diciamo che ormai è diventato l'85% del nostro lavoro ecco mi fermo qui era solo un auspicio dopo se dobbiamo strappare qualche punto percentuale in più per l'efficienza energetica va bene però insomma buttate un occhio condivido condivido grazie per la disponibilità veramente molto cortese sicuramente avremo modo di confrontarci su questo e altri temini in futuro le auguro una buona giornata e un buon lavoro buon lavoro a voi buon convegno arrivederci grazie a voi arrivederci arrivederci adesso ripassiamo la parola all'ingegner Limoni adesso ripassiamo la parola perché l'ingegner Limoni è un cavaliere fa passare davanti la signora Silvia Bonetti che affronterà l'argomento sisma bonus perché mica c'è solo l'efficientamento energetico grazie 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 a tutti allora intanto un attimo la voce e io mi scuso ma purtroppo sono qui per conto di easy e proprio e proprio domani la mia associazione easy ingegneria sismica italiana festeggerà il decennale quindi abbiamo appuntamento tutti a Roma io ho un treno dopo le 4 quindi faccio il mio intervento poi volo in stazione quindi chiedo scusa se sono un po' entrata gamba tesa senza attendere che il collega Limoni finisse il suo intervento e poi purtroppo devo andarmene da questo interessantissimo convegno sono qui e porto i saluti del nostro presidente l'ingegnere Andrea Barocci e di tutto il consiglio che cos'è easy il nome magari rimembra qualcosa di particolarmente sinistro però in realtà è un'associazione che è stata voluta diciamo all'indomani del terremoto dell'Aquila e che mette insieme tutti quelli che sono gli attori principali che si adoperano per la sicurezza sismica quindi abbiamo la parte delle università per quanto concerne la ricerca e infatti abbiamo un comitato scientifico di altissimo livello abbiamo i professionisti che sono il cuore pulsante della nostra associazione perché sono quelli che tutti i giorni lavorano nell'ambito sismico e progettano quella che è la sicurezza dei nostri fabbricati e poi abbiamo le aziende che sono quelle che producono software tecnologia per esempio le fibre di carbonio per fare un esempio un pochino noto a tutti o comunque elementi strutturali di nuova generazione che consentono di applicare tecnologie antisismiche che sono sempre più attuali e che rendono il problema sicuramente risolvibili anche con costi che comunque cominciano a diventare contenuti rispetto alla realtà diciamo al panorama di una ventina d'anni fa sisma bonus e super sisma bonus è un titolo tremendo infatti io mi domando chi voleva farmi del male con un titolo del genere perché perché mette insieme due degli elementi principali dell'ingegneria sismica degli ultimi cinque anni cioè il sisma bonus classico quello che è entrato in vigore con la finanziaria del 2017 e il sisma bonus il super sisma bonus quindi quello che conosciamo oggi l'argomento di questa di questa conversazione però dal punto di vista dell'ingegneria sismica quindi per ora di efficientamento energetico non parliamo attenzione però perché parliamo di sismica parliamo di strutture quindi di un concetto che è totalmente diverso da quello che si è soliti discutere quando si parla di isolamento diciamo di miglioramento delle prestazioni energetiche perché il freddo c'è tutti gli anni tutti noi sappiamo perfettamente quanto consumiamo alla fine dell'inverno sappiamo perfettamente che se la nostra casa ha il cappotto avremo determinati consumi un determinato comfort se la nostra casa non ha il cappotto avremo un altro tipo di consumi un altro tipo di comfort di terremoto però non sappiamo esattamente se la nostra casa è in grado di assorbire le azioni le accelerazioni sismiche o non lo è perché per fortuna il terremoto non avviene tutti i giorni e di conseguenza per fortuna potremmo non accorgerci mai per assurdo di vivere in un ambiente sismico oppure purtroppo per tutta una serie di ragioni di vivere una crisi sismica magari particolarmente intensa nell'arco della nostra vita oppure di viverne più di una e questo è il problema dell'Italia il problema della sicurezza sismica dell'Italia e entriamo nel primo problema del sisma bonus il tempo il tempo perché bene o male le nostre costruzioni non sono come le costruzioni giapponesi o americane sono costruzioni molto molto antiche i nostri centri storici io adesso sto facendo un intervento nel centro storico di Verona abbiamo trovato una muratura che comunque arriva fino al tetto del 1200 che ovviamente è in insalata assieme a altri tipi di muratura quindi noi ci troviamo ad avere un territorio che al suo interno nella sua storia dell'architettura o comunque nella sua peculiarità e quindi anche per i nostri condomini perché i nostri condomini possono essere palazzoni fatti nel 1982 ma possono essere anche dei palazzi nei centri storici che hanno elementi sicuramente molto antichi o comunque molto vecchi quindi di fatto il nostro costruito risente sì della storia dell'architettura ma risente soprattutto della storia sismica italiana perché che è successo in Italia in Italia non è che nel 1909 fossero tutti molto impegnati a parlare di sismica e avevano avuto una bella disgrazia a Messina qualche giorno prima perché nel 1908 a Messina c'è stato un violentissimo terremoto uno dei più violenti della nostra storia cosa è successo? Che nel 1909 hanno detto sai che c'è? Siamo una nazione bella grande finalmente perché sapete che la nazione italiana era molto giovane cominciamo a fare le cose seriamente facciamo un primo libro di ingegneria sismica cioè le case vanno costruite così e così già c'era però cosa hanno fatto? queste regole qui di ingegneria sismica che non vi spiego le applichiamo d'ora in poi in tutti quei comuni in tutti quei posti in cui avrà un terremoto cancelliamo il passato quindi si è deciso che nel 1908 solo Calabria era sismica nel 1915 il bene o male la zona dell'Abruzzo e via via scorrendo pian piano pian piano si è arrivati al 2003 per cui l'Italia da un insieme di comuni sismici e comuni confinanti non sismici finalmente è diventata un paese totalmente sismico 2003 quindi 100 anni dopo quindi il nostro costruito è così è un costruito che per la stragrande maggioranza dei casi non è stato progettato per il terremoto ma è un costruito che risente del terremoto oggi non nel 1952 perché magari il terremoto arriva 2009 all'Aquila 2016 in Appennino 2012 in Emilia e magari ci sono case che erano lì dal 1939 quindi noi abbiamo un problema e abbiamo un problema che così come s'è ingenerato nel lungo tempo si risolve nel lungo tempo perché non è che io in un anno metto in sicurezza l'Italia dal punto di vista sismico anche avendo risorse infinite è impossibile quindi primo problema che sia super bonus o super sisma bonus il tempo il tempo perché anche il sisma bonus che prevedeva 5 anni di attuazione che parevano tanti ma in realtà non sono tanti perché voi vi occupate di condomini adesso io vorrei sapere qual è quel condominio che nel giro di 3 mesi è in grado di deliberare che si dipinge la facciata 6 mesi quanti? ora ditemi quel condominio che nel G che dal 19 maggio 2020 a inizialmente il super sisma bonus doveva terminare col 31 dicembre 2021 quindi un anno e mezzo che nel giro di un anno e mezzo è in grado di deliberare con una maggioranza più o meno qualificata di fare lavori di messa in sicurezza sismica progettare appaltare senza che ci si litighi tra condomini effettuare i lavori e pagarli qualcuno è riuscito a farlo? nessuno? io? sì sapete perché? perché erano lavori già in programma ovvio il committente un condominio grandi edifici avevano in programma di fare dei lavori di ristrutturazione capitato già col sisma bonus quindi già erano fatti secondo un certo criterio con le varie peculiarità del super bonus zack zack hanno fatto è entrato in vigore con il DL34 del 2020 quindi parliamo di maggio 2020 ieri dal punto di vista delle norme è entrato in vigore il sisma bonus e chiaramente il committente mi ha chiesto di farlo perché guadagnava prima era l'85% si è arrivati al 110% adesso non voglio entrare nei tecnicismi e si è fatto ma è un caso è un caso fortuna magari chi aveva terminato i lavori subito prima ha detto sfortuna chi non fa in tempo è sfortuna però è così ma una norma che ha come finalità quella di migliorare una prestazione ingegneristica che può essere io non mi occupo di risparmio energetico però comunque è una prestazione la sicurezza sismica non può pensare di farlo in un anno perché è un controsenso è allora una regalia un bonus chiamiamolo in modo diverso ma non può essere una norma che cambia perché una norma che cambia qualcosa che si muove in modo così lento come abbiamo visto guardando al passato poco fa chiaramente deve avere un tempo di movimento un'onda lunga che deve essere almeno di vent'anni di vent'anni però questi vent'anni che mi servono comunque sono vent'anni che servono e portano dei vantaggi perché perché finora adesso io vi cito il dato dell'Aquila perché lo conosco bene perché l'ho toccato con mano l'Aquila la ricostruzione finora quindi molto poco non è completa assolutamente è costata 20 miliardi di euro la ricostruzione dell'Apennio Centrale costerà circa perché è molto più complessa una trentina di miliardi di euro parlava di 7 miliardi e mezzo prima l'onorevole quindi capiamoci quanto è vero che costa la messa in sicurezza sismica però cosa porta nel lungo periodo dove ha ragionato questo purtroppo è un difetto che i nostri politici perché la visione a lungo termine non è sempre così scontata e non voglio esprimere giudizi insomma qualunque sia la storia politica ci insegna questo entriamo un attimino nel dettaglio perché da qui vi porto entro proprio nel nucleo del mio intervento e poi purtroppo vi devo lasciare nel 2020 quindi a maggio 2020 DL34 dice questo signori diamo una spinta all'edilizia vi ricordo che eravamo tutti fermi in lockdown anche la maggior parte dei cantieri erano chiusi già esisteva vi ricordo il sisma bonus cioè chi faceva interventi che erano obbligatori di miglioramento sismico aveva un vantaggio fiscale che andava dal 70% all'85% secondo i casi non entro nel dettaglio entra questa norma qui mi dice ok tu puoi avere non solo il 70% o quello che è 80% ma il 110% pur che tu faccia questi lavori che sono racchiusi in questi commi dell'articolo nel coma 4 dell'articolo 119 perdonatemi che vanno dall'1bis all'1ter che fa riferimento a misure antisismiche generali e poi le vedremo e vedremo e poi dall'1.4 all'1 septis che sono praticamente un parallelo del vecchio sisma bonus quindi nel 2020 il governo ci dice attenzione potete fare il vecchio sisma bonus e invece dell'80 avete il 110 ottimo e quindi quelli che avevano già i lavori in corso hanno detto benissimo in più potete fare un'altra cosa potete fare questo cioè si fa riferimento adesso non entro nel dettaglio normativo ve lo metto per completezza comunque si fa riferimento al DL63 del 2013 quindi si possono portare in detrazione tutti quegli interventi che portano un miglioramento anche statico per esempio adesso dico una cosa ho un problema di sfondaleamento dei solai del mio condominio nelle parti comuni faccio l'intervento va certificato in un certo modo lo porto in detrazione benissimo ni benissimo ni perché perché va benissimo migliorare i nostri fabbricati e ne hanno anche un gran bisogno però dobbiamo guardarci nelle palle degli occhi e dobbiamo capire che cosa vogliamo perché mi pareva che si parlasse di sicurezza sismica o no adesso migliorare dal punto di vista statico non è proprio una sicurezza sismica allora cosa succede che in questo disposto normativo è stato messo un pochino dentro sia quello che era il classico miglioramento sismico del super bonus che peraltro nella sua grafica molto simile all'eco bonus quindi miglioramento di una o due classi diciamo che la grafica è identica proprio per creare anche un parallelismo nell'immaginario comune sia qualunque intervento di tipo statico lei al balcone che sta cadendo per esempio lo migliora sisma bonus gliel'ha detto al suo amministratore lei al tetto che ha un problema lo sistema sisma bonus capite che allora diventa un mare magnum perché perché c'è la corsa al bonus allora io mi domando sempre nell'ambito della filosofia ha senso e qui quindi vengono fuori tutte quelle che sono le criticità perché in realtà poi non è tutto o nero bianco nel senso che i nostri centri storici non sono come i centri storici degli Stati Uniti o i centri storici della Germania sono fatti così queste sono foto preso a caso nord centro e sud Italia cioè togliete un sasso da una parte viene giù la casa dall'altra parte quindi l'agenzia delle entrate cosa dice esplicitamente questa è una delle criticità fondamentali gli interventi devono essere unitari cosa vuol dire vuol dire che se io faccio un intervento anche di miglioramento locale come il suo balcone comunque io devo avere una visione unitaria del fabbricato che non è detto che inizia e finisca dove c'è la sua proprietà o dove c'è l'amministrazione Bepi Sugaman che amministra quegli appartamenti ma vuol dire che è un organismo strutturale completo che va analizzato e che quindi non è che posso prendere il primo che passa per strada di A2 fammi il progetto ci vuole una responsabilità e anche una capacità e a parte l'opportunità e la deontologia professionale è anche una questione di opportunità perché poi l'agenzia delle entrate ha tempo otto anni per venire a vedere se avete fatto o non fatto le cose e io sinceramente preferisco dormire di notte quindi le problematicità che sono emerse sono anche queste cioè noi ci troviamo davanti a un intervento che contiene un miliardo di possibilità perché voi capite che qualunque problema strutturale vero cioè se c'è problema di diminuità non c'entra ecco abbia il mio fabbricato io posso intervenire però posso intervenire chiaramente lavorando in un certo modo quindi con un'assunzione di responsabilità che lo stesso disposto normativo domanda e vuole protetta proprio chiedendo al tecnico un'assicurazione dedicata ora io volevo presentarvi proprio per dettagliarvi la questione non è ancora pubblico quindi questo è un attimino un'anteprima un questionario che abbiamo fatto ai nostri iscritti i nostri iscritti sono principalmente come detto poc'anzi professionisti che si occupano di sicurezza sismica totalmente quindi o nell'ambito della progettazione oppure nell'ambito della produzione di tecnologie quindi conoscono il problema estremamente a fondo e abbiamo fatto un questionario estremamente dettagliato ma che offre veramente uno spunto molto e molto interessante al di là di quelle che sono le questioni ovvie il tempo l'assicurazione queste cose qui veramente fa capire quali sono le problematicità e l'auspicio che vi porto subito alla conclusione l'auspicio che noi di ingegneria sismica auguriamo è ovviamente che il bonus continui perché altrimenti non avrebbe senso averlo fatto secondo noi perché un anno di interventi dal punto di vista sismico è una goccia del mare tanto valeva non farlo e mantenere il vecchio sisma bonus ma quindi una premialità va benissimo anche se estendibile agli anche agli interventi statici come il suo balcone chiaramente adesso io non vorrei che lui mi odiasse ma con una premialità economica un pochino più bassa perché talvolta si è visto anche in ambito di ricostruzione post sismica che effettivamente riuscire a tirar fuori qualche soldino magari poco responsabilizza non solo il cittadino ma anche il progettista rispetto ad una visione un pochino più coerente del problema perché se io un vestito ho bisogno di un vestito e vado da Tizio che me lo regala da Caio che mi fa tirare fuori 5 euro è ovvio che io a Tizio non gli chiedo neanche com'è me lo prendo vado a casa magari a Caio dovendo tirare fuori 5 euro mi interessa un pochino di più della qualità è un esempio banalissimo ma è per farvi capire effettivamente il problema ai nostri questionari hanno risposto anche dei libri cittadini che comunque non erano dei tecnici perché comunque era un questionario open anzi se volete è ancora pubblicato sul sito se avete piacere di compilarlo e comunque abbiamo diviso le risposte sia per quello che riguarda il cittadino adesso io dico cittadino perché non era chiesta la professione ma poteva essere chiunque fosse interessato al tema quindi dal cittadino che voleva fare il sisma bonus su casa sua all'amministratore condominiale al commercialista a quant'altro quindi come vedete le risposte bene o male sono anche molto scontate perché dai media non si parla d'altro sui media quindi la fonte di conoscenza è quella interessante questa slide qui tutti conoscono il sisma bonus ma alla fine quelli che hanno deciso o comunque hanno provato ad applicarlo sono la minoranza quindi effettivamente se è una proposta così allettante così interessante come mai una minoranza poi qui ci sono le motivazioni chiaramente il tempo e il problema della complessità della diciamo della macchina messa in campo è ciò che ha fatto propendere per il no perché tante volte anche il comune cittadino di fronte alla complessità e anche ai costi iniziali di una pratica fa un passo indietro e qui come vedete e questo devo dire che è vero nel senso che anche per quanto mi riguarda ma per quasi tutti i colleghi è così la maggior parte delle richieste di studi di fattibilità più che di preventivi perché chi è più interessato a chiedere lo studio di fattibilità sono di case singole o bifamiliari o proprio trifamiliari i condomini sono la minoranza e perché molto di solito occorre avere l'ok dell'assemblea per chiedere uno studio di fattibilità quindi diventa tutto questi sei mesi già ce li siamo mangiati per cominciare quindi anche questo è un bel problema il problema della detrazione fiscale quindi cessione del credito e quant'altro e chiaramente è un sicuramente migliora la cosa più interessante è la sezione professionista per cui la maggior parte anche questo è un grosso problema e l'ingegner Farsirollo l'ha sollevato la mancanza di chiarezza nei provvedimenti l'agenzia d'entrata fa degli interpelli risponde anche devo dire molto molto velocemente però gli interpelli sono opinioni tra virgolette quindi non è un valore io non posso dire ho fatto così perché me l'ha detto l'agenzia dell'entrata sull'interpello chiaramente poi successivamente ci fossero contestazioni l'interpello non ha valore probatorio o nì quindi è estremamente talvolta le incertezze sono molte vi faccio un esempio su tutti non sempre si riesce poi dipende dai casi però ci sono dei casi per cui si hanno dei benefici di altro tipo oppure c'è il 50% ci si chiede se si può contestualizzare nella stessa pratica il 50% il 110% non è una risposta semplice ma è ovvio che una persona che magari una persona un condominio che decide di mettere in sicurezza sismica lo stabile magari rifà i marciapiedi non mi sembra sbagliato avendo già l'impresa e un cantiere pensare di fare che ne so i marciapiedi o l'impermeabilizzazione del tetto quindi voci che non sono detraibili col super sisma bonus ma che potrebbero nell'ambito di non restrutturazione rientrare nel 50% per esempio poi vabbè il numero degli incarichi alla fine dipende dalla granenza dello studio quindi è poco probante secondo me particolarmente interessante sono le motivazioni cioè le critiche che secondo me possono essere trasmesse direttamente sia agli organi legislativi che comunque come l'agenzia dell'entrata io adesso non mi riferisco all'Enea ma perché chiaramente per noi l'Enea non è salvo per qualche intervento per cui si fa contestualmente miglioramento sismico e risanamento energetico ci sono delle tecnologie sul mercato oggi per farlo si fa soprattutto sulle scuole comunque noi ci rivolgiamo all'agenzia delle entrate perché chiaramente non ci occupiamo di miglioramento delle prestazioni energetiche i tempi e soprattutto i colleghi ritengono che dovendo esserci un contributo e chiaramente questo non è potere dell'agenzia delle entrate ma è una decisione per cui Easy poi si farà partecipi sarebbe anche giusto differenziare in modo premiale nel senso che se lui fa un intervento per il suo balcone e magari l'ingegner Limoni fa un intervento per cui migliora di due classi un fabbricato è chiaro che a parità di spesa l'intervento dell'ingegner Limoni adesso ho detto Limoni perché ce l'ho davanti ma di chiunque è merita di più rispetto non perché il suo balcone non meriti ma perché siccome la finalità è la sicurezza sismica è chiaro che in caso di terremoto il suo balcone sta bene di com'è quindi sarebbe anche opportuno un altro suggerimento che arriva ma questo è molto più complesso avere una premialità in relazione a quanto più sismica una zona che ne so a Messina magari avere una premialità diversa da Verona ma questa sarebbe davvero difficile da mettere in campo cosa dicono i colleghi allora innanzitutto legge non chiara questo è vero perché finché dobbiamo fare il condominio casermone singolo non vincolato con la sovraintendenza né con un vincolo ambientale che non ha problemi di nessun tipo per quanto riguarda i centri storici meno male si riesce anche abbastanza quando cominciano ad esserci aggregati edilizi vincoli per cui occorre il parere della sovraintendenza e non so se vi è capitato ma qui sei mesi è soltanto aprire la porta e chiuderla quindi l'anno diventa qualcosa di proprio no sense è veramente molto più complesso perché non si capisce neanche cosa si riesce a fare è veramente molto molto complesso cioè uno alza le mani l'iter burocratico è ancora troppo compresso e poi sapete che più è complesso un iter burocratico più aumentano le responsabilità perché appena sbagli è più facile sbagliare e sbagliando quindi uno ha più responsabilità se una cosa è molto facile è più facile farla giusta quindi psicologicamente si hanno meno responsabilità a fronte poi di magari meccanismi di parcello o altro che rimangono molto molto basse che spesso non riescono nemmeno a coprire i costi aggiuntivi legati alle assicurazioni poi questo questo magari l'agenzia delle entrate potrebbe essere un ottimo suggerimento per una pubblicazione futura perché è veramente complesso in sede di soprattutto asseverazione dei lavori effettuati distinguere tra quelli che sono i lavori prettamente strutturali e quelli che non lo sono perché chiaramente non è che poi sia bianco o nero se io devo levare un pavimento che magari è anche un problema di umidità per esempio ma anche un problema strutturale dove lo metto quindi non sempre è così semplice rispetto alla responsabilità che che ha il professionista rimane il tema degli aggregati edilizi per cui veramente non esiste nemmeno una linea guida chiara occorre valutare caso per caso quindi concludendo e tolgo il disturbo sicuramente la possibilità di redigere una classificazione sismica dei fabbricati e quindi eventualmente migliorare è un passo in avanti epocale per il nostro costruito perché tra 50 anni immaginate che quasi tutti i nostri fabbricati abbiano una classificazione sismica questo consentirebbe anche soltanto in caso di emergenza sapere già in un centro storico quanti edifici a rischio ci sono e quanti invece sono sicuri o non sicuri consentirebbe davvero di poter fare la differenza in ambito anche di piani di protezione civile o comunque di piani di intervento è chiaro che la strada è molto lunga il sisma bonus è sicuramente una via però dobbiamo ricordarci che noi siamo dei giganti che camminiamo lentamente noi che facciamo sicurezza sismica e che quindi ci occorre uno strumento che vada alla nostra velocità e quindi con tempi molto lunghi io vi ringrazio spero di essere stata chiara ed è stato un immenso piacere breve perché mi dica io parlo con l'amministratore l'intervento sismico si è tenuto la difficoltà che incontra l'amministratore per convincere i condomini a far inseguire l'intervento sismico perché in tanti interventi che ho proposto si è esplicitata un po' la necessità che i condomini andassero ad abitare in un altro appartamento perché se l'intervento sismico viene fatto all'interno dei singoli appartamenti quello richiede che per almeno due mesi questo mi dicono i tecnici per almeno due mesi gli abitanti degli appartamenti debbano andare a postarsi in altri abitanti è vero allora questo è un problema e infatti è la prima cosa che chiedono ed è una cosa che si considera in ambito progettuale perché è impensabile che 20 famiglie prendano su e vadano altrove ma non esiste per fortuna oggi ci sono delle tecnologie che non in tutti i casi perché ci sono dei casi in cui non è possibile applicarle però ci sono delle tecnologie che consentono miglioramenti sismici importanti agendo dall'esterno o con torri dissipative o con cappotti sismici attenzione perché noi parliamo di miglioramento sismico non adeguamento che sarebbe l'ottimo ma se fossimo tutti i primi della classe non ci sarebbero chi ha bisogno di ripetizioni cosa vuol dire miglioramento sismico evitare che l'edificio crogli o che qualcuno si faccia male che l'edificio si lesioni può rientrare in una valutazione globale di diciamo prestazioni il progettista deve valutare le prestazioni discuterle con il comitente in questo caso l'amministratore che poi riporterà in assemblea e dire signori siccome non è che potete traslocare per un anno perché è impensabile è giusto ma poi io stessa mi opporrei con tre figli mi manca solo questa chiaramente si raggiunge un compromesso per cui si garantisce una sicurezza che comunque evita crolli perché i crolli ci sono non è che capitano se andate a vedervi adesso purtroppo noi come Isi abbiamo studiato abbiamo fatto un grossissimo lavoro con FederCasa che è l'associazione delle case popolari abbiamo fatto uno studio macro sismico sui comportamenti sismici dei condomini di case popolari che sono uno spaccato della realtà costruttiva italiana molto molto interessante dovrebbe esserci sul nostro sito e effettivamente è successo il terremoto del centro Italia e dei fabbricati di FederCasa sono crollati con parecchi morti quindi parliamo di un ambito molto molto serio insomma non è che non può fare a caso o sbagliarsi si può evitare questo se un edificio è molto vecchio ha dei problemi non puoi raggiungere oppure ci sono delle tecnologie ancora più innovative che sono per esempio gli isolatori sismici ma non possono essere applicati sempre per esempio su Villa 40 non possono essere applicati che consentono di isolare il fabbricato rispetto quindi di disaccoppiare il modo del fabbricato rispetto a quello del terreno consentendo quindi una prestazione e consentendo quindi che il fabbricato rimanga quello che è anche con le sue debolezze però lavora con accelerazioni sismiche molto molto più basse io scusate ma ho tra meno di un'ora al treno quindi grazie grazie prometto di acquistare un appartamento con balcone prossimamente il genere di mori nessuno la interromperà non è un problema riprendiamo da dove eravamo rimasti allora dato appunto che ci sarà la presenza di energia in sede delle entrate io volevo evidenziare quali erano aspetti alcuni aspetti positivi alcuni negativi alcuni sono già stati detti negli interventi precedenti gli facevo notare anche il presidente Falsirolo nel collegamento con l'onorevole Rota quindi tra gli aspetti positivi abbiamo sentito il rilancio del settore dell'edilizia e qui mi fermo perché è già stato parlato e poi io volevo metterla anche sul piano professionale perché c'è stata una rimessa in gioco delle competenze dei tecnici e quindi riconoscendole il ruolo fondamentale nella progettazione nell'esecuzione dei lavori nella direzione dei lavori per costruire in qualità ridando tra l'altro anche dignità ai compensi professionali delle professioni tecniche perché si fa riferimento a dei tarifari tarifari che la politica aveva abolito in passato e che quest'ultima questa abolizione aveva reso mortificante la professione e l'aveva resa alla merced di imprese clienti e offerte a ribasso quindi su questo il super bonus ha messo un punto fermo anche di riconoscenza dell'operato dei professionisti poi tre punti positivi io vedo la rivalutazione e diciamo una nuova importanza che viene data come significato a determinati documenti tecnici che prima erano erroneamente visti solo come formalità burocratiche e mi riferisco ad esempio alla relazione tecnica sui fabbisogni energetici ex legge 10 e agli attestati di prestazione energetica che erano quelli che fino a qualche anno fa si trovavano a 50 euro su Groupon questi qui sono dei documenti che sono fondamentali per capire come accedere e proseguire in tranquillità in questo tipo di incentivo perché vanno a valutare con coerenza la situazione anteopera e postopera individuando quei miglioramenti che siano miglioramenti sismici o energetici e in particolar modo per la parte energetica il salto delle due classi o ancora di più la miglioria che si vuole apportare a quel fabbricato in tutti i termini significa materiali isolamenti correzione dei ponti termici verifica di non formazioni di muffe e condense e la parte impiantistica con l'utilizzo di fonti rinnovabili quindi hanno ripreso un ruolo e un significato determinati documenti che prima erano non dico una farsa ma quasi viene perciò sensibilizzata con questo tipo di incentivo la sensibilità alla ricerca della qualità sul metodo di progetto di costruzione e di realizzazione delle opere quindi se questi sono alcuni aspetti positivi che volevo sottolineare anche proprio per la valenza del mondo tecnico adesso proprio per scaldare gli animi volevo anche esprimere alcuni aspetti negativi sulle tempistiche abbiamo già sentito parlare nei precedenti interventi cioè questi incentivi ad orologeria rischiano di esplodere nelle mani dei contribuenti dei tecnici di chi li applica se ci sono delle tempistiche ristrette che non consentono in prima battuta un'assimilazione una metabolizzazione di incentivi così complessi da un punto di vista normativo e tecnico che giusto proprio per fare un esempio ci sono chiarimenti ancora in essere nel 2021 quando tra otto mesi in teoria ci sarebbe dovuta essere la scadenza al 30 giugno 2023 del super bonus per le unifamiliari siamo ancora qua a ricorrere FAQ chiarimenti su un incentivo che è quasi sarebbe quasi alla fine se non si se non avrebbero proposto proroghe di cui si parlava prima il 2023 quindi non è il modo di operare se non si ha una pianificazione una programmazione degli incentivi in modo stabile e a lungo termine perché questo diciamo non attira gli investitori non incentiva la riqualificazione e non incentiva nell'ottica anche degli obiettivi che il governo ha con agenda 2030 e gli obiettivi di sostenibilità 2050 anche gli obiettivi del paese perché se noi continuiamo a darrovellarci su normative su proroghe e non si dà slancio invece a questo tipo di riqualificazione probabilmente saranno difficili da ottenere anche gli obiettivi di sostenibilità che si intendono ottenere alle porte del 2030 e nel 2050 che sono qui dopodiché diciamo che su questa parte della proroga hanno anche parlato gli altri relatori quindi volevo sottolineare anche la criticità legata al tipico modo di scrivere leggi in Italia che necessitano di chiarimenti ma poi anche di ulteriori interpretazioni ai chiarimenti appena dati e qui volevo fare anche degli esempi proprio perché per far capire a Enea e agenzie delle entrate qual è lo stato d'animo e quanto viviamo nella pelle noi professionisti nell'affrontare quotidianamente le richieste che ci vengono fatte da clienti imprese e dal mondo del costruire se è possibile diciamo farmi partire le slide prendo un esempio emblematico giusto per far capire agli enti che magari già lo sanno e ne sono a conoscenza ma per entrare nel vivo della proposta anche che verrà fatta in questo convegno l'isolamento del sottotetto è stata fatta una revisione introdotta dalla legge di bilancio del 2021 il 30 dicembre 2020 nel suo testo diciamo la novità era quella evidenziata in eretto dove si specificava che gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolata quindi nel super bonus senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente già ci sono dei problemi secondo me di comprensione del testo in italiano nel capire questo chiarimento o questa ulteriore modifica ci sono poi anche delle incongruenze di definizioni tecniche relativamente alla superficie disperdente al concetto di superficie disperdente e questo sarebbe dovuto essere stata una modifica migliorativa a questo articolo del super bonus con questo sono nati ulteriori chiarimenti si è specificato che quella modifica era relativa all'intervento trainante legato agli isolamenti termici citati nell'articolo 119 comma 1a che gli interventi quindi potevano anche essere su un ambiente non riscaldato cosa che non era specificata precedentemente nella normativa e come terzo requisito c'era che per accedere all'intervento trainante di cui al comma 1a è necessario che l'isolamento superi il 25% della superficie disperdente lorda del fabbricato anche qui ulteriori convegni a stabilire che se l'isolamento era fatto sul solaio del sottotetto concorreva e quindi sul solaio che divideva ambiente riscaldato da non riscaldato concorreva al computo delle superfici disperdenti da quantificare per il raggiungimento di quel 25% se invece l'isolamento era posto già sul sottotetto non riscaldato quindi ad esempio sulla falda del tetto non concorreva alla superficie disperdente quindi i tecnici hanno dovuto seguire convegni informazioni notifiche chiarimenti che potevano specificare questi altri tre aspetti e fino a quel momento lì uno avrebbe potuto consigliare al cliente di isolare una volta che il cliente decideva di fare io sto facendo un esempio semplice per capirci in questa abitazione uno interveniva facendo un cappotto che già di per sé superava il 25% di superficie disperdente e per quanto riguarda l'isolamento del tetto poteva scegliere se isolare il solaio che va dall'ambiente riscaldato verso il sottotetto non riscaldato isolare le falde esterne della copertura o per chi aveva eccesso di zelo poteva anche isolare sia il solaio che il tetto perché non c'era scritto da nessuna parte che io non potevo eseguire questa terza soluzione fatalità il 30 agosto 2021 sul sito web sulla pagina web del sito dell'Enea compare un avviso il 31 agosto tornati dalle vacanze uno apre il computer e vede che non è più possibile portare in detrazione la terza soluzione perché c'è questo avviso non è una fac non è una legge non è un decreto non è nulla che possa essere legislativamente parlando avere un significato dove viene detto che uno deve scegliere se isolare la copertura o isolare il sottotetto andrà in detrazione o un isolamento o l'altro allora questa è la nuova diciamo visione che il terzo esempio non va più bene bisogna scegliere se uno o l'altro e quindi chi lo spiega al contribuente al cliente che non può più detrarsi una parte degli isolamenti di copertura o del sottotetto per chi ha già inviato pratiche all'Enea facendo quelle valutazioni che precedentemente vi ho fatto vedere come gli enti controlleranno verificheranno si comporteranno per valutare queste soluzioni qui si parla di soldi si parlava prima l'onorevole parlava di giustizia di giustizia sociale che questi incentivi sono una forma di giustizia sociale però devono essere chiare le regole del gioco mi sembra che col super bonus si sia fatto un giochi senza frontiere su il ricorrere a questo tipo di metodo nel spiegare la normativa di riferimento oltre che a responsabilizzare il tecnico che magari potrebbe essere chiamato in causa con la sua assicurazione a coprire quelle spese che non vengono coperte per queste evoluzioni di legge e dichiarimenti quindi da dicembre 2020 siamo passati a agosto 2021 con queste novità d'accordo quindi un modo di dire concedetemi un'ultima battuta dice parli come mangi parla come mangi in Italia si mangia bene quindi sarebbe implicito che uno dovrebbe parlare bene dovrebbe parlare bene però anche con il linguaggio delle leggi oltre che a saperle scrivere nel modo più appropriato e più chiaro possibile guardi per dire una cosa è molto peggio in realtà perché nel 2009 è stata fatta una legge approvata dal Parlamento in cui per legge appunto si impone la chiarezza che poi naturalmente non viene rispettata quindi cioè chi ha fatto le leggi poi non le rispetta questo è il concetto ecco io quindi volevo mettere un po' così di pepe sul sentimento che come tecnici proviamo nell'applicare questo provvedimento che senz'altro è positivo perché ha dato modo di diciamo far girare il volano dell'economia dell'edilizia però ci sono rischi pericoli e responsabilità che vanno appunto messe sotto la lente di ingrandimento e fatta quella chiarezza che anche l'onorevole prima citava lascio diciamo il microfono al prossimo relatore la parola ai numeri il paradiso degli ingegneri ecco qua Federico della Puppa ok mi sentite si benissimo grazie buon pomeriggio a tutti sono molto contento di essere in questa finalmente in presenza mi metto qui perché così vedo meglio perché altrimenti sono un po' ciecato sono molto contento finalmente di essere ad un convegno in presenza il primo dopo diciamo un lungo periodo e quindi per noi che erano abituati a molti eventi durante l'anno e nel mio caso mi dicono sempre dai vieni a dare un po' di numeri allora vi do un po' di numeri ma perché qualcosa è già stato detto prima solo che forse capire un po' i numeri ci aiuta anche a capire se effettivamente questo provvedimento ha delle speranze delle gambe per poter viaggiare oppure se diciamo finora è stato così un diciamo un passaggio nella storia dell'edilizia in realtà se andiamo a vedere i numeri da questo punto di vista sono numeri piccoli ancora però sono numeri molto interessanti io direi che forse non sottolineerei come siano pochi gli interventi sui condomini ma sottolineerei come potete vedere che in realtà i condomini fanno pochi numeri in termini di numero assoluto di condomini ma fanno tanto movimento dal punto di vista del mercato cioè la cosa interessante è che di fronte alle 46.195 asseverazioni al 30 di settembre di quest'anno con investimenti totali di 7,5 miliardi realmente spese ad oggi 5,1 miliardi perché con i SAL sapete bene si va ecco i condomini sono di questi 46.000 interventi sono 6.400 cioè il 13,9% del totale uno dice vabbè è poca roba ma se andiamo a vedere in realtà la spesa totale i condomini assorbono il 47% della spesa quasi 48% perché? perché una spesa media per interventi in un condominio è di quasi 560.000 euro il che significa che questo è un mercato interessante sotto vari punti di vista poi vedremo degli approfondimenti visto che siamo a Verona visto che siamo in Veneto forse fare anche due numeri sul Veneto possono essere interessanti 5.700 tanti interventi totali e siamo al 12,1% del totale nazionale già vi do un dato il nostro PIL Veneto sul totale nazionale fa circa il 9% mediamente il numero di imprese il numero di occupati è il 9% se noi facciamo il 12,5% qui significa che stiamo correndo un po' di più della media nazionale cosa che poi è anche verificata da un altro indicatore abbiamo complessivamente ad oggi in Veneto investito i lavori preventivati sono 731 milioni di euro di quali sostanzialmente 537 già spesi ma la cosa interessante è che in Italia se andiamo a pesare il numero degli interventi su mille famiglie abbiamo 1,76 interventi ogni mille famiglie in Veneto 2,75 come al solito la nostra regione di fronte a degli incentivi fiscali o volumetrici voi conoscete la Veneto 2050 l'ex piano casa Veneto tanto per dirci di fronte agli incentivi allora il Veneto risponde sempre molto positivamente e in fretta e velocemente e poi vedremo qualche altro dato interessante su questo però c'è anche qualche altro luogo comune da sfatare perché è vero che gli incentivi in questi anni sono stati utilizzati i bonus quelli normali soprattutto nelle regioni del nord nord ovest nord est e centro un po' meno al sud però guardate che di fronte all'incentivo del super bonus si è svegliato anche il sud e questo è interessante perché significa che è uno strumento che è stato capito ma soprattutto alcune diciamo località del sud in modo particolare le grandi città hanno iniziato ad utilizzarlo perché lì hanno grandi condomini e grandi condomini vecchi e da questo punto di vista i dati positivi sono che al sud mediamente si spende un po' di più della media nazionale per singolo intervento e addirittura il Molise che è questa fantomatica regione che non esiste scherzo ovviamente di solito si dice il Molise non esiste ovviamente una battuta lo ripeto non vorrei qualche molisano in realtà il Molise è la regione nella quale la spesa media per intervento sulle abitazioni monofamiliari sulle villette è la più elevata di tutta Italia la media 101 mila euro in Veneto siamo a 102 mila euro in Molise 125 mila euro allora questo qua vedete dei numeri un po' piccoli ma dopo magari le slide saranno disponibili quindi le vedrete però la cosa interessante è che se noi mettiamo in fila e cominciamo a confrontare mese su mese il numero di asseverazioni guardate che la crescita è esponenziale tra la fine di agosto e la fine di settembre più 24,4% le asseverazioni quindi i cantieri più 31,8% la spesa cioè il volume generato quindi in realtà sta partendo e sta partendo in modo interessante anche proprio il mercato dei condomini perché guardate a fronte del 24% della crescita delle asseverazioni totali le asseverazioni sui condomini nello stesso periodo crescono del 32,2% e gli investimenti del 34,8% ovviamente ci sono dinamiche diverse e pesi diversi nelle diverse regioni ma la cosa che è interessante è che in realtà i condomini stanno velocizzando la loro dinamica è chiaro che prima di tutto c'è un provvedimento di questo genere l'ha detto qualcuno prima di me sono partite soprattutto le villette sì sono partite le villette perché è più semplice è più facile c'è il signor Mario o la signora Maria col cognato vicino gli dice dai fai i lavori fai i lavori fai i lavori nel caso dei condomini è un po' più complicato perché abbiamo x numero di signor Mario e x numero di signora Maria x numero di cognati che dicono io ne so più degli esperti c'è l'amministratore condominiale che di fronte a tutti questi stacca il cellulare e da un altro lato c'è un procedimento un po' più complesso da mettere in campo ma l'elemento interessante è proprio questo il fatto che i condomini stanno iniziando a crescere dal punto di vista proprio della dinamica quindi siccome abbiamo 6.400 condomini in Italia che hanno già affrontato questo tema non abbiamo la classica buona pratica da presentare che è una no l'esempio in realtà abbiamo 6.400 già e sarebbe interessante poi capire come alcuni hanno fatto e come sono riusciti a risolvere alcuni problemi ora da questo punto di vista voi sapete che c'è tutto il tema delle difformità eccetera sul quale si è cercato di intervenire in parte risolvendo in parte no eccetera c'è un problema generalizzato che è quello dell'aumento dei prezzi dovuto al fatto che per decreto ministeriale si è deciso di dare non solo di definire quali sono le prestazioni dei materiali da usare ma si sono definiti anche i prezzi massimi e nel momento in cui io nella mia azienda ho dei dipendenti e dico ai dipendenti guardate avete la diaria per mangiare 30 euro al giorno i dipendenti spendono 29,90 30 se possibile giusto per mangiare ma se io dal giorno dopo gli dico guarda per mangiare ti do 50 euro al giorno secondo voi continuano a spendere 29,90 o vanno a spendere 50 è chiaro che questo è un meccanismo dove non si può imputare solo alle speculazioni del mercato ci sono anche degli elementi dove e concordo parla come mangi forse ecco qualche volta chiedere ai tecnici come funziona il mercato aiuterebbe anche a far funzionare meglio le leggi da subito anche se questa legge sta funzionando guardate il numero di investimenti cioè la dimensione degli investimenti e soprattutto il numero degli interventi sono molto rilevanti in tutte le regioni è chiaro ogni regione c'è alcune piccole alcune grosse la Lombardia sembrerebbe vincere sempre tutto perché la regione è più grande ha i numeri assoluti ma se andiamo a pesare ecco qui vedete la classifica che già vi dicevo prima il Veneto come capacità di attivazione di numero di interventi è la prima regione in Italia seguita dalla Calabria e poi dal Molise poi dalla Toscana dall'Abruzzo vedete che è un provvedimento che a questo punto non è più pensato per i territori più ricchi cosiddetti come in alcuni casi alle volte alcune leggi si dice ma quelle le useranno solo quelli che hanno i soldi in realtà no e l'altro elemento interessante è che se andiamo a vedere la classifica del super bonus solo per i condomini per gli interventi in condominio vedete che il primo posto c'è la Lombardia ovviamente sempre per dimensioni della regione secondo posto la Campania poi l'Emilia Romagna e il Lazio anche in questo caso ovviamente nel caso della Campania nel caso del Lazio è chiaro che pesa molto Roma è chiaro che pesa molto Napoli le altre grandi città dove abbiamo anche dei sistemi insediativi diversi da quello ad esempio delle luoghi di urbanizzazione diffusa come il Veneto ma come sono anche molte aree di altre regioni ecco tanto per dire lì sotto vedete nel riquadro in Veneto ad oggi comunque 200 milioni di euro di investimento solo nel super bonus 110% per i condomini non è poca roba forse rispetto al totale del mercato delle costruzioni in Veneto può sembrare una goccia secondo me è una goccia è un bel bicchierino questo perché considerate che mediamente abbiamo tra gli 11 e 12 miliardi di investimento all'anno nelle costruzioni in Veneto quindi ad oggi i 500 milioni rappresentano circa il 4-5% di crescita in un anno e non è ancora finito l'anno arriveremo al miliardo quindi quelle crescite dell'8-10% del mercato che si diceva all'inizio dell'anno sono sicuramente raggiungibili significa più lavoro per tutti ovviamente ma significa anche capire che dietro a queste opportunità in realtà la filiera deve organizzarsi deve in qualche modo organizzarsi meglio sia dal punto di vista dei perché il punto chiave lo ricordo sempre è che verranno fatti i controlli e oggi intervenire con questo fare interventi col superbonus significa ovviamente rispettare tutte le regole che ci sono date ma significa che tra 5 anni l'Enea potrà bussare alla porta di casa nel condominio e dire siamo venuti a vedere se il capote è da 8 e se per caso l'impresa che ve l'ha venduto da 8 l'ha messo da 6 in realtà l'Enea chiama l'agenzia e dice fatevi dare i soldi indietro più tutte le multe che bisogna pagare essendo il superbonus moneta fiscale cioè genera la cosiddetta moneta fiscale che non è un termine lo uso io perché con la cessione del credito eccetera abbiamo creato un sistema dove noi contrattiamo bonus fiscali io cedo a lui un credito lui cedo a lui un altro credito e questo elemento ovviamente ha a monte che cosa non il fatto che dobbiamo avere i soldi in tasca ma il fatto che dobbiamo avere fatto bene i lavori che abbiamo dichiarato che erano stati fatti bene dal punto di vista degli interventi nei condomini il peso maggiore diciamo il numero totale di asseverazioni su mille condomini c'era la basilicata con 6,72 interventi ogni mille condomini ovviamente pesa molto sicuramente la struttura della città di potenza in questo caso ma potete vedere poi altre regioni e qui Abruzzo Molise Trentino Alto Adige Le Marche eccetera eccetera il valore medio nazionale 2,38 non è poco 2,38 interventi con il super bonus ogni mille condomini esistenti in Italia allora uno dice ma è pochetto sì però intanto abbiamo altri 997 volendo che potremmo andare a fare su quei mille chiaro che non riusciremo a farli tutti con questo provvedimento la cosa importante è però mettere in moto un meccanismo dove l'investimento sui muri della propria abitazione del proprio edificio oggi è un investimento che sappiamo essere migliore di quello finanziario cioè in grado di rendere di più perché perché innanzitutto rivaluta l'edificio nel momento in cui io lo venderò 2, abbassa i costi di gestione energetica oggi l'energia aumenta del 27,8% 30% la bolletta che sta arrivando sono già delle piccole mazzate nelle nostre famiglie nel momento in cui vado a risparmiare l'80% del costo energetico mediamente così significa che io nell'arco di 5-10 anni mi sono già recuperato quasi tutti i soldi dell'intervento in più c'ho l'accessione del bonus cioè meglio di così no qual è l'investimento che oggi garantisce un ritorno finanziario di questo genere cioè oggi paradossalmente è più importante mettere i soldi nei muri della propria casa che metterli in banca o in qualche prodotto finanziario e sapete quanti soldi ci sono in giro in questo momento da utilizzare in questo mai come nella storia della nostra repubblica perché in questo momento abbiamo la cifra sale di mese in mese l'ultima che mi ricordo che era quella di due mesi fa era circa mille e sei poco più di mille seicento miliardi di euro che gli italiani hanno in giacenza sui depositi bancari cioè e paradossalmente nell'anno del covid questa cifra è aumentata ed è aumentata di molto perché di fronte all'incertezza le persone hanno detto beh aspetta vendo un po' di azioni mi metto i soldi sotto il materasso li tengo là questi mille e seicento miliardi sono soldi sotto il materasso sono soldi che non vengono utilizzati e che oggi invece con questo sistema verrebbero rimessi in circolo da qui anche l'idea che il super bonus effettivamente ha un costo per lo Stato ma in realtà mette in moto degli altri meccanismi attenzione un altro elemento che vorrei sottolineare rispetto a ciò che è stato detto anche in apertura di convegno è che in realtà è vero che questo provvedimento ha un costo per lo Stato ma anche è vero che noi come Stato ci siamo impegnati entro il 2030 e entro il 2050 a ridurre del 20% e fino al 40% le emissioni e quindi è chiaro che lo Stato da qualche parte cioè non può chiedere solo a noi di spendere lo Stato da qualcosa deve investire e logicamente dentro questa logica ci sta questo provvedimento provvedimento che peraltro è stato approvato con grande successo anche dall'Europa cioè l'Europa non ci ha detto no non ha detto no ha detto no bella idea anzi molto innovativa ok chiaro che dobbiamo capire fino a che punto portarla avanti io sono d'accordo che probabilmente il 110 adesso lo usiamo un po' che è una buona partenza poi diamo tutti al 75 che comunque è conveniente lo stesso però datevi il 75 per sempre questo è un elemento sul quale tutti dobbiamo concentrarci ecco se mettiamo gli interventi sulle unifamiliari e gli interventi sui condomini a confronto qui abbiamo i vari pesi le varie cose vediamo che addirittura il Veneto sui unifamiliari rispetto alla media nazionale di 3,6 interventi ogni mille unifamiliari noi siamo a 4,38 ne abbiamo tante villette eccetera ma dove il Veneto primeggia è in una classifica particolare è l'altro caso quello delle unità immobiliari funzionalmente indipendenti classica casetta di 3 appartamenti 4 appartamenti 3 appartamenti dove ognuno ha il proprio contattore il proprio gas eccetera no questi interventi qui oggi sono uno degli interventi che finora è stato più utilizzato ma guardate che è anche un modo attraverso il quale le singole famiglie quelle che hanno anche meno forse disponibilità da un certo punto di vista fanno da apripista agli interventi più complicati per quello dico che la dinamica dei condomini è interessante vederla adesso perché significa che se mia zia o mio cugino il famoso cugino ha fatto l'intervento a casa sua in una condizione di questo genere è chiaro che me lo dice e il passaparola per come funziona io che abito in condominio a quel punto comincio a dire al mio dirimpietario mai letto questa cosa guarda c'è la possibilità eccetera sentiamo l'amministratore possiamo fare e questo è un meccanismo che oggi troviamo non solo sui super bonus ma ad esempio sul bonus facciate cosa che peraltro sta facendo sì che tra super bonus e bonus facciate in questo momento in Italia non ci sono ponteggi se voi andate a chiedere un ponteggio a noleggio o volete comprarvi un ponteggio tipo compro una macchina nuova o il ponteggio no come compro un ponteggio ecco voi andate non ci sono ponteggi né a noleggio né cioè in questo momento non si trovano perché non eravamo pronti a un boom di questo genere e chiaramente non era possibile pensarlo ecco ultimo tema è il tema dell'efficienza della spesa cioè non è importante solo attivare il provvedimento non è solo importante fare le asseverazioni ma è partire qui in cantieri e poi rendicontare noi siamo per esempio in Europa famosi perché facciamo tanti progetti europei ma poi ne ricontiamo pochi ci danno i soldi ma poi arriviamo che a un anno dalla fine del periodo di spesa dei grandi progetti europei l'Italia ha scuso il 20% con alcune regioni che magari sono ancora sotto sotto quel 20% quando dovremmo aver speso l'80% ecco qui guardate Umbria Veneto Emilia Romagna siamo a oltre il 73% cioè siamo partiti e non solo sono stati iniziati i lavori ma abbiamo fatto qua più del 73% di quello che dovevamo fare quindi questo è un altro buon segnale significa che il provvedimento è un po' complesso io dico sempre è complesso non è complicato cioè se lo decodifichiamo è complesso ok ma non è complicato non è difficile alla fin fina burocrazia è una rottura di scatole ok ma la burocrazia non è difficile se ci pensiamo bene è solo che ci impegna tanto alle volte ci impegna un po' troppo rispetto a quello che sono le esigenze allora qua dobbiamo semplificare ma guardate che questa capacità significa che in queste regioni si è stati in grado di velocizzare i processi allora qui direi che la cosa interessante sarebbe proprio andare a imparare da chi sta facendo da chi sta facendo bene se pensate che in Veneto comunque visto che siamo qua abbiamo ad oggi 389 condomini che hanno utilizzato questo sistema voi dite ma è poca roba oddio in Veneto abbiamo poco più di 500 comuni significa che diciamo non dico che un condominio per comune c'è ma ci stiamo avvicinando significa che nel mio comune probabilmente un condominio che ha fatto questi lavori c'è quindi c'è uno e devo andare a cercarlo e dirgli come hai fatto chiudo perché sono stati presentati dei dati anche prima su un'indagine però erano 39 intervistati eccetera noi con un osservatorio che personalmente coordino sul mercato delle costruzioni del Veneto ogni tre mesi intervistiamo 600 imprese di costruzione la cosa interessante che è emersa in queste rilevazioni che abbiamo fatto quest'anno questa è l'ultima il secondo trimestre guardate che chi è già partito con i cantieri sono quasi un terzo delle imprese circa il 28% ma cantieri con il super bonus ma sono soprattutto le imprese più strutturate guardate un'impresa su due di quelle con più di sei addetti sta lavorando quindi questo è un provvedimento che necessita organizzazione e necessita molta organizzazione non si può pensare che sia la piccola impresa fatta da due tre dipendenti che può risolvere questo problema perché c'è bisogno di struttura c'è un'altra cosa che è interessante è che nel mercato ancora è presente una forte percentuale di soggetti che fanno domande ma non fanno partire i lavori cioè c'è ancora un po' di incertezza e l'incertezza il cliente a chi è che va a chiedere a chi conosce all'impresa al geometra all'amministratore ai soggetti che pensa che siano esperti in questo senso appena uno dice ma io questa cosa la conosco no infatti io quando sono a tavola eccetera sto zitto non dico mai niente perché sennò praticamente sono tutte le domande ma come funziona e ti fanno le domande ma io allora arrivano quel foglietto disegnato ma io ho una casa fatta così qua c'è mia zia ecco allora chiudo su questo dobbiamo essere tutti molto più informati molto più consapevoli sulle opportunità della norma su come funziona certamente non possiamo sapere a memoria tutte le risposte degli interpelli dell'agenzia delle entrate cosa che oggi sta diventando diciamo quasi la normativa ufficiale no però è anche vero che oggi se io so dove andare a informarmi posso trovare la risposta magari non la so subito però per tutto ciò che è di fronte a me il condominio fatto in certo modo la casa con la piccola difformità posso le volte trovare degli elementi se non li trovo la cosa più principale è alzo il dito e faccio la domanda faccio l'interpello chiedo le risposte ci sono molte verranno date anche tra un po' e penso che la cosa importante in questo momento sia proprio questo far girare le informazioni far girare qualche numero e anche qualche riflessione grazie per l'attenzione abbiamo detto abbiamo detto che questo è un convegno che fa proposte ma fa anche delle richieste e alcune le farà Alessandro Pisano che oltre a essere un ingegnere ha anche il vantaggio di conoscere da vicino il mondo del condominio quindi ha una marcia in più grazie c'è qualche slide delle mie grazie allora buongiorno a tutti il mio sarà un intervento forse nazional popolare non tanto come posso dire di indicazione di quelle che sono i dati della filiera che sono stati ben definiti ben descritti io do una visione di quello che è ciò che appare al cittadino cerco di mettermi in questa ottica perché va bene sono anche tecnico sono un ingegnere ma faccio anche l'amministratore e mi trovo a ridosso di quello che sono le decisioni condominali allora ovvio in questo abbiamo visto ci sono numeri interessanti numeri che danno valori positivi alla filiera è altrettanto vero che vi sono alcune problematiche in essere una quella che affrontiamo come come ingegneri come tecnici quella delle norme in continua evoluzione quella di continui chiarimenti che arrivano da tutte le parti siamo bombardati dai chiarimenti dalle pubblicazioni talvolta anche in contraddizione l'una con l'altra dalle famose fac che ci andiamo a vedere a destra a sinistra e poi abbiamo anche questo terreno che in qualche maniera è un terreno molto molto friabile perché è quello delle scadenze allora le scadenze noi vediamo i numeri che dava prima il dottor della pupa che sono ad esempio sui condomini 6.406 a livello nazionale i condomini sono circa 1.200.000 ora ovvio non tutti sono in qualche maniera adatti ad essere efficientati ci sono di quelli che non lo possono proprio perché originariamente non hanno i prerequisiti però altrettanto è vero che i numeri sono ancora in partenza non possiamo essere soddisfatti sebbene abbiamo le imprese che stanno lavorando sebbene questo stia determinando anche un aumento dei prezzi quindi un aspetto tra virgolette inflattivo sebbene questo stia creando anche una concorrenza fra le varie imprese che si rubano il personale e quindi viene assunto anche talvolta personale che non è qualificato ma è altrettanto vero attenzione che il fatto che non vi sia una chiarezza sulle effettive scadenze all'origine laddove c'è una decisione condominiale se iniziare le opere o meno è determinante questo è determinante perché uno deve capire se ci sta dentro se non sta dentro nei tempi e deve capire anche quali sono tutti i diciamo il cruscotto sul quale si muove e la quindi ben venga il Nadef che in qualche maniera dà la proroga fino al 2023 si legge anche che vogliono forse è già stato ieri deciso anche il 2024 allo stesso tempo però noi leggiamo o guardiamo anche il telegiornale che Draghi è un attimo titubante perché i fondi sono troppi perché non si può andare a efficientare in questa maniera a spese dello Stato però ricordiamoci una cosa che il recovery fund prevede che dovremmo raddoppiare il tasso di efficientamento degli edifici entro il 2025 quindi forse ci arriveremo non so sono questi i dati se però ci dicono anche se non ho capito male il dato che diceva prima l'onorevole ci saranno a disposizione 8 miliardi e 100 diceva questo valore non so qualcuno 13 e 9 13 e 9 ecco perfetto questi non sono numeri che portano a quei valori del recovery fund però comunque non istanto in ogni caso lasciamo probabilmente ci diranno qualcosa di più più avanti e non era questo il motivo del mio intervento il mio motivo del mio intervento è anche legato quello che vedete sulle slide cos'è questo famigerato rischio cioè noi sappiamo che abbiamo il super bonus sappiamo che abbiamo questa opportunità è un'opportunità unica però noi vediamo anche che ci hanno avvertiti ci hanno avvertiti attenzione c'è il rischio quale? fino ad agosto c'era il rischio di avere vizi edilizio urbanistici poi è arrivato il MEF che ha detto beh per il super bonus anche in presenza di vizi edilizio urbanistici chiudiamo gli occhi e andiamo a erogare ugualmente il bonus poi non è definito però il discorso di quello che può essere le sanzioni che si possono ricevere dai comuni comunque lo stesso questo è già un passo avanti però gli altri passi devono ancora essere chiariti cioè quando si dice che all'interno della filiera non devono essere commessi degli errori io domando quali errori possono portare alla revoca del beneficio fiscale nel super bonus 110 in quale misura di inesattezza vengono considerati tali cioè mi tolgono tutto mi tolgono il 10% perché queste sono risposte che bisogna avere per poter andare ai condomini a dire fidatevi è un'occasione è un'opportunità poi con quali parametri vengono valutati queste queste inesattezze e con quali conseguenze cioè questo è fondamentale ecco perché dico che questo è un intervento nazional popolare perché ha poco a che vedere con le domande che tecniche pertinentissime che seguiranno poi dopo il mio intervento e che alle quali vogliamo dare una risposta dal punto di vista tecnico ma qua non c'è solo la risposta del tecnico qua c'è la risposta che deve essere data a tutto tondo ok questo è la prima slide la seconda vediamo se so voltare sì ci ho fatta allora la seconda è in che percentuale è previsto vengano analizzate pratiche da Enea e Agenzia delle Entrate io so che loro l'hanno chiarito ma sarebbe un'occasione buona per replicarlo visto che siamo in alcune migliaia che seguiamo questo convegno che è uno dei convegni secondo me non perché siamo tra gli organizzatori ma è uno dei pochi convegni che non ha un carattere commerciale e che va dritto a quello che è effettivamente il succo del super bonus quello che davvero deve essere esposto e quindi questo è il secondo quesito e il terzo quesito eccolo qua le pratiche già presentate pratiche di super bonus già presentate prima dei chiarimenti che via via si stanno susseguendo tramite FAQ o altre fonti come verranno considerate se alcuni contenuti risultino diformi da quanto successivamente i dichiarito e questa è una domanda secondo me fondamentale cioè il super bonus c'è dal primo luglio del 2020 io vedo non so per chi legge solo le 24 ore veramente ogni due o tre giorni mi vedo il bollino quello verde rosso con scritto 110 ed io mi trovo continuamente cose che mi danno delle risposte ulteriori allora io mi domando chi ha operato dal primo di luglio e magari ha già presentato la domanda e poi si scopre adesso in una delle FAQ oh porca miseria ho sbagliato che cosa fa? cioè gli viene tolto tutto non gli viene tolto cioè queste sono le cose che secondo me con chiarezza devono ricevere una risposta guardo sono finito la nazione sì l'ultima cosa considerazione quale sarà il destino di questa filiera al termine del super bonus perché è vero che questo sta dando una fiammata è altrettanto vero che di fiammate con le fiammate se facciamo un paragone molto molto proprio nazional popolare se io faccio una grigliata spero che la carbonella un po' alla volta prenda fondo e poi dopo mi cucini bene la carne se io invece do una gettata con col combustibile viva Dio rischio di bruciare tutto ecco e la mia paura è proprio questa perché i fenomeni che si stanno creando in alcuni ambiti della filiera mi danno l'idea che stiamo cogliendo la cosiddetta occasione di fare un buon lavoro per un paio d'anni e poi rischiamo di avere un drop ecco del drop ne abbiamo avuto già fin troppi nella nostra economia e credo che sia opportuno iniziare a creare un po' di rampa abbastanza moderata ma continua grazie ho finito grazie per quanto riguarda io direi che gli argomenti sono stati molto stimolanti per quanto riguarda l'aspetto quattrino rifare il punto io non sono come dire non conosco l'onorevole che è intervenuta prima quindi faccio interpreto il pensiero ma come dire da quanto ho sentito prima quando c'è stato il lockdown un anno e mezzo fa vi ricordate tutti fermi tutti a casa chiusi ecco purtroppo il governo ha avuto l'idea di aumentare quelli che c'erano già cioè i bonus casa che per i condomini arrivava se non ricordo male fino al 75% facciamoli fino al 100% anzi qualcosa in più perché così le banche danno i soldi e ci guadagnano qualcosa questo era l'intento perché era tutto fermo e facciamo ripartire hanno messo nella legge di bilancio dell'anno scorso cioè per quest'anno una cifra che era mi sembra 10 o 12 miliardi di cui fino a 8-4 8-6 secondo le stime saranno quelli impegnati quest'anno allora è chiaro che non bisogna illudersi che il super bonus sia una caramella che si mangia per i prossimi 100 anni in Italia ci sono circa 1 milione 200 mila condomini come diceva prima Federico della Puppa il costo medio il valore medio degli interventi è di circa 500-550 mila euro se moltiplichiamo questa cifra soltanto per la metà dei condomini facciamo circa 300 miliardi gli ingegneri saranno più precisi che nascono con la calcolatrice nella culla però è impensabile nonostante i benefici bisogna trovare come diceva Federico della Puppa giustamente prima un modus per come dire farci stare i quattrini la sostenibilità sia sostenibile e al contempo dare delle certezze ma non bisogna certo illudersi che il 110% sarà una strada comunque diciamo che l'ingegnere Pisano ha posto un sacco di interrogativi io adesso passo la parola invece a Elena Mazzola e Giordano Concontin due ingegneri che porranno altre domande per Enea e Agenzia delle Entrate Buongiorno a tutti nel frattempo dovrebbe esserci anche Enea Agenzia delle Entrate in contatto con noi sì perché l'idea era quella che il nostro intervento sarebbe stata una serie di quesiti posti direttamente sia Enea Agenzia delle Entrate questi quesiti sono stati raccolti negli ultimi mesi dai nostri dalle nostre commissioni tramite i nostri colleghi vi segnalo già che non sono nessun quesito ordinario quindi non ripasseremo tra i nanti tra i nati quello che ormai sappiamo e è da un anno che parliamo ma invece sono quesiti che secondo noi hanno bisogno di un approfondimento perché magari il chiarimento o l'interpello non hanno ancora non ci hanno ancora convinto diciamo così partiremo da quesiti un po' più semplici fino ad arrivare a dei quesiti un po' più complessi che riguardano invece le tempistiche e anche le asseverazioni e la compilazione della pratica Enea quindi molto pratico partirei con il primo quesito se sono in collegamento ci siamo sì sì ci siamo ecco perché eventualmente c'erano anche i quesiti dell'ingegner Pisano da rispondere era per quello non volevo passare oltre con i nostri più tecnici comunque diciamo che il nostro intervento beh vi presento visto che sono appena entrata sono Favarone Elisa agenzia delle entrate caposezione del SAM di Venezia e qui con me in collegamento c'è la collega Silvana di Marcello avevamo pensato un intervento e nelle nostre slide di presentazione abbiamo tenuto conto di quelle che ci avete preannunciato quindi se volete fare un po' un elenco delle posizioni e poi dopo noi interveniamo a seguire assieme credo anche all'ingegner Prisenzano a rispondere con riferimento a quanto ci avevate chiesto ok allora esponiamo tutti i quesiti poi in caso sì l'idea era questa nel momento in cui darete la risposta se abbiamo bisogno di ulteriori chiarimenti in caso vi chiediamo certo allora partiamo se mi date le slide per favore grazie ok partiamo con l'isolamento termico allora tutti sappiamo che abbiamo bisogno della conformità ICAM per il pannello che andremo ad inserire chiediamo però di rassicurarci un po' su quelli che sono i tipi di certificazione che noi dobbiamo andare a controllare e quindi a chiedere alla ditta fornitrice e quindi al fornitore e alla ditta installatrice mi riferisco soprattutto al fatto che spesso vengono date delle schede tecniche ma vi ricordo che la scheda tecnica arriva direttamente dalla ditta e quindi è essa stessa a crearla e quindi non sempre riporta quello che effettivamente è il materiale non voglio fare cattiva pubblicità a nessuno però insomma il tecnico è giusto che sia conscio di questa cosa e quindi chiediamo anche a Enea quello che poi ci verrà richiesto nel momento in cui farà il controllo e poi di poter fare degli esempi di costi ammissibili vedete l'immagine è un esempio immaginate un edificio unifamiliare abbiamo una soffitta non riscaldata e un garage sottostante è chiaro a tutti che l'isolamento della porzione riscaldata è compresa nel super bonus avremo una porzione dovuta alla soluzione del ponte termico che vedete in verde chiediamo però cosa fare nella parte con il punto di domanda cioè per terminare la parte del sottotetto io non ho la possibilità di finire in quel modo ma ho bisogno di prolungarlo fino al colmo del tetto e se posso detrarre poi al 50% per la parte non riscaldata sembra quest'ultima un quesito semplice in realtà vi ricordo che con la C la super bonus sarà necessario richiedere e fornire al comune due pratiche separate una per solo ciò che dovrà andare nel 110 e tutto ciò che è straneo quindi ad esempio quella porzione che andrà al 50% dovrà andare con una pratica parallela prossimo quesito sì poi tutta una serie di quesiti riguardo al fotovoltaico e alla batteria di accumulo quindi li elenco poi magari quando risponderà cercherò di capire un attimino meglio rispetto a quanto anche la risposta penso di Enea la prima è se è possibile fare un secondo impianto fotovoltaico se vi è un altro pianto esistente e cosa cambia se quest'ultimo è incentivato chiaro che anche qui ci sono già delle risposte ma magari cerchiamo un po' di fare chiarezza poi volevamo chiedere se l'attuale normativa prevede l'obbligo delle linee vite per ottenere super bonus e magari anche qui cerchiamo di capare qualche esempio laddove magari è anche contestuale con un capotto e quindi c'è già un'impalcatura il caso della sua installazione se è possibile inserire il suo costo tra le spese del fotovoltaico inoltre se è possibile ottenere il super bonus su batterie di accumulo su impianti già esistenti e se è possibile installare batterie di accumulo successivamente alla chiusura del super bonus qui mi riferisco anche a una diciamo a quello che è scritto cioè contestuale successiva di sistemi di accumulo la frase che è scritta diciamo sulla legge e dopo per ottenere lo sgravo fiscale del super bonus è necessario avere l'allaccio dell'impianto ed aver ricevuto comunicazione di avvenuto ottenimento del regime di concessione parziale da parte del GSE oppure per ottenere oppure se per ottenere lo sufficiente allegare la richiesta di cessione parziale qui mi riferisco a una cosa che purtroppo anche noi tecnici dobbiamo un po' viaggiare non solo sui siti ufficiali ma è una risposta a questa che è stata data sul telefisco dall'agenzia delle entrate in cui chiarisce che l'allaccio e quindi la fine dei lavori del fotovoltaico sono avere il possesso da comunicazione e accettazione da parte del GSE dell'istanza poi sulla sostituzione dei generatori in quale massimale rientrano i cambi di sistema di emissione e qui mi riferisco anche soprattutto diciamo al condominio no scusate quindi ad esempio alcuni casi pratici un condominio che sostituisca il generatore condominiale se chi vuole sostituire il proprio sistema di emissione internamente alla propria abitazione abbia anche questi costi ammissibili a 110 e lo sviluppo è se vuole passare ad esempio da sistemi di emissione a radiatori a sistemi radianti che anche questo sappiamo che aumenta l'efficienza dei generatori piuttosto che altri casi specifici che magari mentre parliamo direttamente con Enea proviamo a porre poi la questione dei serramenti che negli ultimi mesi ci ha visto spesso cercare risposte sapete che fino a qualche mese fa tutti sapevamo che dovevamo sostituire un serramento così come era quindi doveva essere della stessa forma nella stessa posizione in questo modo potevamo ottenere il vecchio ecobonus poi diventato super bonus agenzia delle entrate con questa risposta la 524 del 2021 dice invece che l'importante può essere anche che spostiamo i serramenti li cambiamo completamente l'importante è che la situazione ante opera veda una superficie totale dei serramenti che sia più grande di quella che invece viene sostituita alla fine perfetto finché abbiamo il caso classico di completa sostituzione non succede nulla quando abbiamo l'altro caso invece che riporta agenzia delle entrate cioè che i serramenti finali hanno una superficie complessiva minore dell'antiintervento non abbiamo problemi perché agenzia delle entrate ci ha risposto il problema invece nasce quando ad esempio abbiamo 10 serramenti il cliente mi chiede di sostituire 9 serramenti e il decimo magari farlo passare da una finestra a una porta finestra in questo caso non ho la sostituzione di tutti i serramenti ma solo di 9 quindi quelli secondo la vecchia quanto diceva Enea inizialmente io potrei farli passare al 110% ma secondo la nuova definizione di agenzia delle entrate io non posso più perché ho aumentato la superficie vetrata quindi capire in questo caso cosa dovrei fare cioè prendere il 110 solo sui 9 e il 50 sul decimo oppure se perdo la detrazione fiscale il 110 per tutti i serramenti l'altro caso invece che chiediamo ad Enea se ci può dare una risposta è i classici monoblocco sapete che sono formati anche dalla parte possono essere formati anche dalla parte di cassonetto tutto l'isolamento attorno al serramento quando si va ad agganciare alla parte di muratura avremo bisogno di capire tutte queste spese dove le dobbiamo andare a inserire perché non è più un serramento puro ma è un serramento con una chiusura oscurante e anche abbiamo la risoluzione di un ponte termico che non dovrebbe rientrare nella parte serramenti ma dovrebbe rientrare invece nel superficie opache e quindi risoluzione dei loro ponti termici un'altra domanda che questa penso che risponderà l'agenzia delle entrate invece è con un intervento di sisma bonus ed eco bonus sullo stesso edificio la domanda che ci poniamo è se parte dell'incentivo del super bonus sia possibile riceverlo terminati i lavori di sisma bonus che solitamente chiaramente sono i primi a finire trattandosi di struttura e magari con la data e con l'audo e capire se come fare nel caso anche perché diciamo quella che tanti di noi tante una cosa che noi vorremmo sapere è abbiamo un intervento combinato possiamo con quello che riceviamo del sisma bonus poi girarlo sull'eco bonus per andare avanti c'è questa possibilità non c'è è escludibile a priori oppure c'è la possibilità questa è un po' la domanda poi casomai ne approfondiamo sì poi invece per la parte di pertinenze anche qua negli ultimi mesi ci sono stati un po' di cambiamenti l'ultimo è con un chiarimento del 6 ottobre quindi è molto recente in cui l'agenzia delle entrate dava delle risposte per valutare quali potevano essere i moltiplicatori dei vari massimali e quindi qui chiediamo di chiarire e quindi soprattutto l'agenzia delle entrate di chiarirci per i singoli casi quindi edificio unifamiliare condominio minimo fino al condominio vero e proprio e anche se ci siano dei requisiti per poter avere questo moltiplicatore perché si era discusso solo se le pertinenze sono all'interno della sagoma dell'edificio poi invece potevano essere anche esterne ma all'interno dello stesso lotto quindi chiarire che cosa noi dobbiamo controllare effettivamente e se ci sono dei casi invece che dobbiamo escludere a priori come sembrava dovesse essere ad esempio quello degli edifici unifamiliari che non potevano avere altri moltiplicatori un'altra domanda invece che interessa strettamente a noi tecnici è come se vi è un corretto modo per dividere le specie professionali all'interno dei vari interventi significa tutto quello che facciamo noi tecnici che è chiaramente trasversale a tutti gli interventi ma che hanno un'incidenza talvolta neanche così scontata e che può portare comunque a una perdita di incentivo piuttosto che a un errore quindi questa è una cosa che non è mai stata trattata e vorremmo chiedere direttamente all'agenzia delle entrate o Enea poi arriviamo invece alla questione un po' più spinosa negli ultimi tempi visto che in tanti abbiamo iniziato il super bonus più di un anno fa e quindi ci stiamo trovando a dover asseverare anche le spese tutti ormai sappiamo che dobbiamo prendere il prezzario dei o il prezzario regionale i quali soprattutto il prezzario dei viene semestralmente aggiornato siccome l'intervento del super bonus non è una cosa che inizia e finisce in qualche mese ma spesso ci vogliono anche un anno un anno e mezzo molto probabilmente il tecnico si è trovato a valutare i preventivi con un prezzario e magari nel momento in cui farà l'asseverazione avrà un nuovo prezzario magari due edizioni successive quindi abbiamo l'esigenza di capire intanto se quello che noi avevamo valutato inizialmente può comunque andare bene dimostrando magari che i preventivi erano arrivati un anno fa e quindi noi li avevamo valutati con quel prezzario dei nel caso invece se dobbiamo utilizzare l'ultimo prezzario nel momento in cui noi facciamo l'asseverazione e qual è il metodo di controllo che farà Enea siccome è un file che noi inviamo nel momento dell'asseverazione se dobbiamo inserire che tipo di prezzario abbiamo fatto e di quale edizione perché appunto dovremo spiegare com'è che noi pensiamo che siano congrui quei prezzi che abbiamo inserito faccio una mozione d'ordine perché vedo che le domande sono veramente tante io chiederei forse al dottor Prisinzano e alle due rappresentanti dell'agenzia delle entrate di cominciare a rispondere a queste perché se no veramente si affastellano tantissime e non si ricorda più niente approfitto anche per dire forse non tutti se ne sono accorti ma alle mie spalle nel corridoio oltre a esserci un simpatico bar ci sono anche delle imprese che propongono delle soluzioni per chi fosse interessato a andare avanti a mettere in pratica i lavori di cui si parla quindi io direi che se i nostri interlocutori possono cominciare a rispondere a questo sarebbe bello pronto qui base alfa rispondete c'era l'agenzia delle entrate prima vediamo se riusciamo almeno si si se mi sentite posso cominciare a rispondere sono presinzano per l'Enea è l'ingegnere presinzano di Enea mi sentite? eccoci si la sentiamo pronto? la sentiamo bene condivido lo schermo e comincio a rispondere alle domande che avete fatto e che sono pervenute a me anche qualche giorno fa metto in modalità presentazione così entriamo subito nel merito delle questioni che avete sollevato si parlava dell'isolamento termico una domanda era quando l'isolamento è ammesso alle come è quando le spese relative all'isolamento termico sono ammesse alle detrazioni fiscali del super bonus e c'è nell'esempio che avete fatto ci sono tre zone zona verde ad attenuazione del punto termico sono ammessibili al 110% scusi ingegnere non so se è possibile far vedere ok grazie si vede si si può proseguire grazie allora voglio precisare una cosa che da un punto di vista tecnico quello che vale per l'eco bonus vale per il super eco bonus e viceversa quando si tratta tutte le zone che servono per la riduzione di un ponte termico quindi che sono zone di influenza di un ponte termico ovviamente sono zone spese ammissibili cioè se è un intervento che attenua il ponte termico lo riduce o lo risolve del tutto ovviamente sono spese ammissibili poi c'è una zona rossa nell'esempio la zona rossa per continuità estetta fino a terra del garage è inseribile nei costi di ristrutturazione è corretto così cioè non è ammissibile agli interventi di eco bonus o super bonus può essere ammissibile come intervento di manutenzione straordinaria o se è eseguito su parti comuni come manutenzione ordinari poi c'è una zona grigia è da considerare zona rossa oppure se contestuale l'usualamento della zona fa può essere considerata verde questa zona grigia è la coibentazione del tempo non disperdente con la legge di bilancio del 2021 è stata in prodotto la possibilità di ammettere alle detrazioni fiscali anche la coibentazione del tempo non disperdente però bisogna stare attenti a una cosa c'è stata una recente interpretazione della verità ancora si sta discutendo che questo intervento è fattibile però a condizione che non sia sovrapposta alla coibentazione dell'ultimo soletto sottostante cioè o l'uno o l'altro questo come interpretazione adesso però c'è è un argomento che è diciamo sotto è un po' in discussione sostituzione generatori di calore scusi ingegnere in quale massima le rie prego scusi giusto per non perdere filo tornare a quello prima e fare un po' di chiarezza quindi anche perché abbiamo un po' bisogno di informazioni e molti di noi già il pulsante in via l'hanno premuto più volte in quest'ultimo caso lei cioè nel senso è un valido rappresentante di Enea per molti mister 110 la parte grigia laddove contestualmente ha una superficie pond quindi quella superficie l'isolamento del tetto su sottotetto non riscaldato lei la considererebbe all'interno dei costi ammessibili laddove chiaramente non è ancora stato chiarito o avrebbe qualche era in ora allora supponiamo di avere quest'ultima soletta se coibento quest'ultima soletta e scelgo di ammettere le detrazioni quest'ultima la coibentazione quest'ultima soletta non posso ammettere la coibentazione del tetto non ci può essere la contemporaneità se scelgo di coibentare il tetto d'altra parte la coibentazione del tetto a cosa serve probabilmente serve a recuperare quest'ambiente e quindi la coibentazione della soletta non ha più senso se quest'ambiente rimane un mano freddo la coibentazione del tetto non ha senso quindi quindi coibento l'ultima soletta siccome sono interventi di efficienza energetica la coibentazione di entrambi contemporaneamente non ha granché senso quindi chiaro qual è il discorso fermo restando una condizione che l'intervento della coibentazione questa superficie di coibentazione di una parte che inizialmente non è disperdente non contribuisce non viene calcolata nella superficie per verificare che si raggiunga la condizione che il 25% della superficie complessivamente disperdente si è raggiunto la domanda era però laddove non vado a isolare la soletta che dà sul vano non riscaldato ma uso la pond è ammissibile secondo lei perfetto secondo me è ammissibile secondo la legge ok perfetto la ringrazio quindi chiarito questo andiamo all'altra cosa costituzione di un generatore di calore in un intervento condominiale allora qui c'era un concetto ed era e si distingueva inizialmente interventi sulle parti comuni e interventi sulle parti private inizialmente c'eravamo espresso del tipo guardate che tutto ciò che è sulle parti private non è parte comuni quindi non ci deve essere questa commissione però poi un'interior riflessione che è avvenuta all'interno del ministero dello sviluppo economico allora oggi in vista della transizione ecologica ha portato a un chiarimento sostituendo l'impianto condominiale per esempio per esempio passando passando da una caldaia tradizionale a una caldaia a condensazione o con una pompa di calore idronica macchine che generalmente vanno bene e funzionano con temperature rimandate basse e quindi funzionano meglio con sistemi a pannelli radianti o comunque con una più alta superficie di scambio e che si può ammettere anche l'adeguamento dei sistemi di emissione all'interno delle singole unità immobiliari tenendo conto però che i costi massimi visibili rimangono quelli dell'intervento dell'impianto centralizzato cioè non è che cosa succede vado a vedere qual è il costo massimo visibile per quell'intervento di sostituzione del genere all'interno di quei costi massimi ammissibili posso anche eseguire l'adeguamento dei sistemi di emissione all'interno delle singole unità immobiliari questo è quindi se posso giusto per dare un taglio un po' più pratico anche alle domande il caso di un condominio di quattro unità costo ammissibile 20.000 per 4 80.000 euro se con 80.000 euro io riesco a cambiare il sistema di generazione quindi la caldaia diciamo generale del condominio più tutti i radiatori barra impianti di radianti che voglio se sto dentro questi massimali è ammissibile corretto giusto perfetto grazie scusi cerco un po' di semplificare anche per no fa bene così cercherò complessivamente se siamo più chiari fughiamo tutti i dubbi fotovoltaica e batterie di accumulo è possibile fare un secondo impianto fotovoltaica se abbiamo un altro impianto esistente è possibile nel limite massimo dei 20 kilowatt avevo sbagliato scusate non è non è non è 4 ma i 20 nel limite massimo andiamo di correggerelo subito ecco dei 20 kilowatt di picco di potenza complessiva e nei limiti previsti dai commi 5,7 seguendo la regola generale che finanzia gli impianti fotovoltaici anche se quello precedente incentivato non cambia nulla si possono installare si può installare la potenza aggiuntiva fino ad arrivare a un massimo di 20 kilowatt poi c'è una domanda sulla sulla linea vita per ottenere il super bonus a mio avviso se l'installazione della linea vita è funzionale alla realizzazione dell'impianto nonché alla manutenzione dell'impianto stesso secondo me è possibile tenere su batterie di accumulo quindi scusi scusi presidente quindi lei anche laddove è ammissibile solo per la manutenzione quindi sto parlando di un intervento la manutenzione la manutenzione devono pulire ho problemi sedi di sicurezza perfetto la ringrazio era perché molti hanno questo dubbio allora ha voluto sempre specificarlo grazie mille ovviamente i costi per sostenere queste spese rientrano all'interno dei costi massimo ammissibili previsti per il fotomotene che ci sono costi aggiunti ecco non c'è un incremento del costo massimo ammissibile il costo massimo ammissibile rimane invariato ma devo dire pure i margini credo che ci siano è possibile ottenere il superbonus su batterie di accumulo su impianti e sistemi no questo perché il comma 6 dell'articolo 119 prevede la contemporanea installazione o comunque l'installazione contestuale di sistemi di accumulo integrato degli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione al medesimo comma cioè è possibile farlo ma limitatamente agli impianti che vengono incentivati dal superbonus è possibile installare batterie di accumulo successivamente alla chiusura del superbonus sì ma non fruiranno del 100% potranno fruire del 50% ai sensi dell'articolo 16b seppr 380 86 poi altra domanda per ottenere lo sguardo del superbonus è necessario avere l'allaccio all'impianto per la comunicazione di avvenuto ottenimento del regime di cessione eccetera è chiaro che ci vuole che la richiesta dell'allaccio al sistema elettivo deve essere accettata quindi deve essere espettata la pratica con il GSE perché se non si ha questa certezza se non si ha la certezza che l'impianto arrivi al proprio funzionamento è chiaro che non può essere ammesso quindi questa certezza dell'allaccio della cessione dell'energia al GSE deve essere certa se posso aggiungere una cosa pre si qua dalla platea chiedono anche se non è sufficiente solo la richiesta al GSE ma deve proprio arrivare l'accettazione la richiesta di per se non è una garanzia che tutto andrà a buon fine il quesito che volevo fare io invece era un po' una combinazione dei due quesiti a cui ha risposto quindi ipotizzando che ho un impianto fotovoltaico esistente al quale io allaccio altri pannelli fotovoltaici che sono incentivati con il 110 a questi io ora aggiungerò ovviamente delle batterie di accumulo e viene completamente accettato quindi questo visto che non è possibile ottenere super bonus per impianti che sono già esistenti le batterie di accumulo sono incentivate relativamente al nuovo impianto che si realizza l'impianto che viene finanziato con ammessa le generazioni fiscali con il super bonus quindi la potenza diciamo finale con il 110% la potenza complessiva considerando esistente il nuovo non può superare 20 kW certo bisogna avere la batteria che però sarà per entrambi gli impianti perché sarà la somma dei due questo la batteria si dirà che serve per un impianto questo deve essere funzionale all'energia che viene prodotta per un impianto per esempio metto una batteria di accumulo superiore alla capacità di produzione è chiaro ci può essere una relazione tra la capacità di accumulo e la potenza quindi comunque è possibile è possibile certo che è possibile le batterie di accumulo devono essere correlate alla potenza dell'impianto dell'unica per fruire del 110 poi posso mettere tutte le batterie che voglio però prenderò il 50 per il 100 perfetto per quanto riguarda sterramenti e impissi qui bisogna fare una precisazione l'intervento deve configurarsi come sostituzione addirittura più che come sostituzione si va a leggere il decreto c'è scritto che bisogna migliorare la trasmittanza dell'impisso esistente miglioramento della trasmittanza che deve raggiungere un valore limite previsto dal decreto che può essere ottenuto questo miglioramento anche con la sostituzione quindi la sostituzione la posso fare in quanto vada a migliorare la trasmittanza dell'impisso esistente questo è l'intervento amministrativo in sede applicativa sono nate mille richieste del tipo ah ma io ho l'esigenza di allargare spostare fare e allora dietro pressioni di questo tipo si è arrivati a una conclusione che si è concretizzata con una risposta data dall'agenzia dell'entrata va bene spostate le punte cambiate le punte ma attenzione non dovete superare la superficie inizialmente prevista cioè non potete fare perché altrimenti non siamo più non c'è più il concetto di miglioramento della trasmittanza di ciò che esiste per chi quindi è è stata una concessione nel dire vabbè siete costretti o volete cambiare qualcosa ma a quel punto c'è da fare un'osservazione molte cose che non si capiscono perché si dimentica un obiettivo il super bonus e l'ecobonus sono stati messi in campo e sono stati previsti per raggiungere degli obiettivi che era l'obiettivo del risparmio energetico obiettivi e consultivazione del risparmio energetico che lo Stato italiano è chiamato a fare da portare in ambito di politica prima c'era l'obiettivo 2020 ormai passato ora abbiamo l'obiettivo al 2030 poi l'obiettivo al 2005 quindi l'obiettivo è sempre migliorare ciò che esiste perché le altre cose non si chiamano interventi di efficienza energetica si chiamano interventi di ristrutturazione e gli interventi di ristrutturazione prendono il 50% non il 65% o anche il 110% il superbonus si inquadra esattamente nelle norme previste dalle commodities cioè le norme dell'efficienza del risparmio c'è stata quindi questa concessione di dire va bene ti concediamo anche di fare qualche piccola ristrutturazione rispetto a prima a condizione che non si superi la superficie inizialmente prevista che significa questo se si supera la superficie inizialmente prevista non si ha più diritto al superbonus per nessuna degli investimenti non fino a 9 il decimo poi si perde per nessuno o si mantiene quella condizione altrimenti lo si perde ma dirò di più non è che si perde solo sul superbonus questo concetto vale anche per il semplice ecobonus per l'ecobonus o anche per la ristrutturazione perché anche nella ristrutturazione si rientra in un concetto più ampio e allora manutenzione straordinaria e ristrutturazione allora in quel caso il 50% quindi questo è stato la concessione si è passato dal concetto di miglioramento della trasmittanza perché questo è l'intervento adesso miglioramento della trasmittanza esistente miglioramento della trasmittanza esistente che si può ottenere anche con la sostituzione e sotto terminale è stata fatta poi questo allargamento dicendo vabbè puoi pure cambiare di posizione a condizione che la superficie finale non sia superiore a quello inizio spero di essere stato chiaro è stato chiaro se posso però intervenire stiamo parlando della risposta 524 che non è più vecchia di 2-3 mesi fa adesso non ricordo neanche più quando è venuta fuori però antecedentemente a questa laddove uno avesse presentato una pratica nel caso pratico che è stato indicato cioè 10 infissi di cui 9 vengono sostituiti con degli infissi con migliori prestazioni e uno per esigenze personali barra anche di accesso per diversamente abili hanno trasformato un infisso in porta finestra si trova ad avere una superficie totale sicuramente maggiore però probabilmente parlo per me stesso ma penso anche per molti dei miei colleghi si è sempre pensato che i 9 potessero almeno essere diciamo incentivati cioè io immagino che ci siano molte pratiche in cui già cominciato già diciamo la mia domanda è questa prima della risposta 524 Enea questo caso come l'avrebbe interpretato? nel modo come l'ho detto perché era di sostituzione nel momento in cui c'è qualcosa di ampliamento non è che sostituzione io l'interpretazione a mio avviso sì ma a Enea sarebbero arrivati sarebbe arrivata una pratica in cui non c'era il decimo in fisso ma c'erano i primi 9 che hanno un'efficienza migliore dei precedenti e quindi dove è il problema? cioè il decimo non è stato sostituito è rimasto così come non lo so poi sono queste cose che si vedono in fase di verifica perché sì francamente la vedo ancora una situazione borderline che non sì ma allora ragioniamo a limite ad ammettere il suo ragionamento tutto è possibile partiamo il discorso io sono abituato a fare proprio il limite in senso magari supponiamo che sia possibile avere una situazione dove la superficie degli infissi può cambiare in modo a piacere allora parto per esempio da due metri quadrati di infissi alla fine ottengo tutta la casa sto facendo un discorso all'inter tutta vetrata i due metri quadrati iniziali me li pago tutto il resto ma qui sto cambiando completamente il concetto di sostituzione degli infissi quindi a mio avviso quello non è un intervento amissibile quindi ho fatto il discorso proprio al limite per far capire se il ragionamento è corretto oppure no quindi se parliamo di sostituzione dell'esistente lo dobbiamo limitare se poi apriamo e facciamo degli stinguo e vabbè allora poi si apre un mondo perché possiamo arrivare anche alle limite che vi ho fatto trasformo tolgo tutti i muri perimetrati li faccio diventare vetrati e posso dire la sostituzione dell'esistente insomma qui stiamo facendo è un intervento completamente differente di quello che era diciamo nello spirito della legge che mira ad incettivare la sostituzione degli infissi esistenti quindi confermo quello che ho detto anche ok però ripeto il fatto che ritengo che la sostituzione degli infissi parliamo di tre anni fa ad esempio giusto per andare fuori dai super bonus laddove uno decidesse di sostituire nove infissi con altri nuovi di migliori prestazioni Enea lo incentivava rimane tra in atto ma noi non è che sapevamo poi cosa succedeva perché nella pratica Enea risulta nove sostituzioni di infissi con nove poi l'altro intervento è una cosa che noi ignoravamo nel momento in cui ci limitiamo a fare noi incendiamo soltanto poi bisogna vedere cosa succede insomma nella realtà perché qui si potrebbe dire ma qui non è che tu hai sostituito qui hai fatto la sostituzione hai fatto un intervento differente dalla sostituzione hai fatto tutt'altro questo però dalle pratiche così dalla semplice compilazione della scheda descrittiva non risultano è chiaro perché in strada di verifica il dubbio poi verrà perché noi per quale motivo non era consentito l'allargamento perché a seguire il suo ragionamento che significa l'allargamento non te lo consento però se di un semplice infisso però se fai tutto quello che vuoi almeno non me lo comunichi è ammissibile mi pare che c'è una contraddizione di fondo perfetto grazie mille allora poi inizialmente settimo non blocco per quanto riguarda il non blocco è un problema che ci siamo posti quando è stato emanato il decreto 6 agosto 2020 sui requisiti perché nel vecchio decreto il 19 il cassonetto non era previsto e quindi non si sapeva come considerarlo se considerarlo la parte opaca oppure la parte trasparente eccetera per poi arrivare al caso che sovinte che è dell'infisso monoblocco che è un tutt'uno costanzialmente è un infisso o un foro che vado a riempire con un manufatto che è monoblocco costituito dall'infisso e dal cassonetto il decreto 3 agosto del 1930 ha detto una cosa molto semplice tutto ciò puoi considerare il cassonetto come parte dell'infisso anch'esso deve soddisfare agli stessi requisiti tecnici quindi tutto va considerato la superficie complessivo l'ingombro complessivo di infisso e cassonetto va considerato come se fosse frutto l'intisso e deve rispondere ai requisiti previsti per gli indissi in termini di trasmittanza ovviamente anche in termini di costo ambissibile per unità di superficie perfetto pertinenza su queste magari risponderà l'agenzia dell'entrata io posso dirvi soltanto una cosa attualmente il sitenea sui edifici condominiali funziona in questo modo prende in considerazione nel rapporto perché voi sapete che c'è bisogna fare una verifica negli edifici condominiali cioè bisogna andare a vedere qual è l'incidenza delle unità immobiliari residenziali sul totale quindi bisogna andare a considerare le superfici catastali delle unità immobiliari residenziali e la restante parte quello che ci è stato detto e abbiamo concordato inizialmente questo nell'ottobre del 2020 per gli edifici condominiali è di considerare nel residenziale le categorie A con l'esclusione della 10 A8 ovviamente perché quelli non sono a me A9 e anche l'esclusione di A10 che sono uffici e sommando le superfici che competono a questi investimenti si può fare il rapporto con il sul totale se questo rapporto superi del 50% sono ammissibili relativamente alle spese sulle parti comuni tutte ecco le spese sulle parti comuni si possono ripartire su tutte le unità immobiliari secondo le politiche si fa se invece l'incidenza residenziale è inferiore al 50% le spese sulle parti comuni si ripartiscono con l'alicoto del 110% soltanto sulle unità immobiliari di tipo residenziale questo è quello come funziona attualmente il SIG ultimamente c'è stato qualcosa qualche qualcosa dell'agenzia dell'entrata ma è una cosa sulla quale si sta rispetto e probabilmente a breve arriverà un chiarimento definitivo su questo aspetto per quanto riguarda le pertinenze poco fa nell'introduzione alle domande ho scritto una cosa un po' strana guardate che qui l'obiettivo nell'articolo 1 del decreto dell'articolo scusate nel comma 1 dell'articolo 119 del decreto rilancio l'obiettivo è l'edificio è chiaro che se parlo di pertinenza deve essere pertinenza all'interno dell'edificio non di una pertinenza esterna che può essere pura a 200 metri di distanza quella non c'entra assolutamente nulla quindi stiamo parlando di pertinenze locale ma cose in ogni momento unità immobiliari che compongono non di cose che sono esterne quindi attenzione a questo mi scusi tornando sempre qua ho capito bene e quindi anche nell'edificio monofamiliare diciamo la villetta laddove è comprensiva della pertinenza garage che chiaramente è una superficie inferiore al 50% di tutto l'immobile è un moltiplicatore cioè nel senso no allora se è una villetta non c'è nessun fattore di moltiplicità è una villetta a se stante e conta di una singola unità immobiliare a se stante poi può avere 50 mila pertinenza ma conta sempre per una sola villetta quindi il discorso il fattore moltiplicativo si configura quando sono di fronte a un edificio condominiale quindi è un edificio composto da più unità immobiliari destinati a vari usi ma se è una villetta quella è edificio composto da singola unità immobiliare quindi lì ho una villetta assistante posso avere le destinazioni tutto quello che voglio ma in quel caso conta e applico le le detrazioni e i costi massimi previsti per una singola unità immobiliare assistante perfetto era per chiarire perché nella slide c'era anche uno infamiliare allora sisma bonus ed eco bonus quindi basta fare una semplice considerazione se voi avete visto i modelli delle asseverazioni sono e seguono due percorsi distinti ad Enea non sa nulla sugli interventi riguardanti il sisma bonus gli interventi di un sisma bonus hanno una procedura seguono un altro decreto si presentano le asseverazioni in comune e quindi hanno una loro linea ad Enea ad Enea regolano soltanto le asseverazioni di efficienza energetica quindi per esempio quando si fa lo stato di avanzamento si verifica il 30% il 60% relativamente agli interventi di efficienza energetica ma noi gli interventi di sisma bonus non sappiamo nulla quindi le due linee le due strade sono completamente separate e assistante quindi tornando alla domanda diciamo che è possibile quindi terminare il sisma bonus in un tempo diverso pertanto ricevere diciamo eventuali soldi di ritorno per poi finanziare anche l'eco bonus eh no no attenzione i soldi destinati al forse ho capito male non è che posso riversare i soldi del sisma bonus sull'eco bonus o viceversa la domanda era diversa io posso finire il sisma bonus di un intervento ricevere il credit i 96.000 euro andare a ritirarlo e con questi diciamo pagare anche parte di interventi accessibili diciamo fa parte di un comune di bilancio la cosa alla quale bisogna stare attenti è che non è che se dispongo di 96.000 euro per i compiari per il sisma bonus poi ne spendo 80 16.000 poi li uso non solo è che questo in molti casi porta a un valutazione economica degli interventi che sicuramente propende più anche a fare il sisma bonus ma il sisma bonus tra l'altro c'è da dire una cosa chiaro che a poco senso iniziare gli interventi di efficienza energetica se non completo gli interventi strutturali che la prima cosa da fare sono gli interventi strutturali dopo che l'edificio ha avuto i miglioramenti strutturali a quel punto inizio gli interventi di efficienza energetica sia in termini piantistici sia in termini sia in termini riguardanti dei miglioramenti certo la differenza è devo star fuori di 96 più 100 mila euro di ecobonus oppure i 96 a un certo punto mi tornano per cui posso coprire parte se finiscono i lavori del 96 se poi va a fare uno sconto in fattura o la gestione del credo alla banca quella ha risolto della banca perfetto è stato esaustivo grazie spese professionali le spese professionali come si suddiviscono a mio avviso vanno suddivise in base all'effettivo impegno lavorativo che il professionista dedica ai vari interventi questa è la mia questa è una sua opinione giustamente certo che ritengo è condivisibile non dico di no però diciamo ad oggi non abbiamo qualcosa di ufficiale per cui un tecnico possa sbagliare diciamo a suddividere le spese non è ufficiale è chiaro che in un altro modo potrebbe essere proporzionalmente dalle spese ma io non condivido del tutto perché ci sono interventi dove il costo del bene è molto elevato e dove l'incidenza della prestazione professionale può essere minima e allora poco senso suddividere in base eccetera allora acquisto cose di alto valore e vi dico che c'è più opera professionale non mi sembra un ragionamento corrente quindi ritengo che le prestazioni condivido ma è anche per i colleghi che magari avessero già fatto cose differenti sapere se possono incorrere in qualcosa di grave ma ad oggi non c'è una visione diciamo poi un criterio di determinare il valore della parcellina secondo ma non stabilito da un decreto prezzari e congruità dei prezzi qui insomma io vedo che c'è un'impostazione anche da quello che avete detto e molti che interpretano che c'è un approccio un po' strano a queste cose molti professionisti fanno un ragionamento a mio avviso errato e dicono qual è la somma massima ammissibile la devo spendere tutta farò in modo di spendere tutto in realtà la legge è di dire fai gli interventi fammi bene cerchi di ottenere pure alta qualità ma poi vai a vedere quali sono i prezzi nel momento in cui faccio il computometrico quale preziario devo usare ma scusate quando si fa una gara o meglio quando si fanno i lavori in un condominio si fa una banca ma si fanno così i lavori si consegnano così sulla parola su valori ballerini o si fa un contratto si stabiliscono i prezzi prima dell'inizio di nuovo è quello il prezzo che bisogna usare su quel prezzo con cui si conclude il contratto bisogna verificare che non sia superiore ai prezzi massimi previsti dai preziari ma non è che uso i preziari e parto da quello e poi se mi cambiano successivamente li adego e li maggioro il prezzo la cosa più corretta è andare a vedere è fare farsi fare dei preventivi sui preventivi stabilisco i prezzi definisco il costo faccio definisco il contratto e poi a quel punto ho i prezzi definitivi che sono i prezzi definitivi che sono inseriti verificando che non sia superiore ai costi previsti dai prezziari ma è quello una volta che ho iniziato e l'ho fatto è quello basta non è che poi mi cambia il prezziario è quello che fa ma scusate i contratti con l'impresa come li ho fatti in modo ballerino dicendo poi dopo un mese ci rivediamo e aggiorniamo i costi non credo che si faccia così ok quindi a livello pratico noi nel momento a livello pratico i costi vanno vanno determinati prima dell'inizio dei lavori sì sì no questo è chiaro ma nel momento in cui noi invieremo l'asseverazione vi riporteremo anche l'asseverazione dovrà anche perché ci deve essere una rispondenza tra quello che mettete nel computometrico e le fatture che si quindi vi riporteremo quale dei abbiamo utilizzato di quale mese quindi in quale aggiornamento quello che è vigente all'inizio nel momento in cui è stato stipulato il comune e si inizia il lavoro basta poi a quel punto non è che si cambia di giorno in giorno cambia il prezzario e poi cambia normalmente cioè già c'è un contratto stipulato qualcosa quindi a quel punto è assoluto a meno che non ci siano varianti allora faccio prevedo un lavoro in più che magari non era previsto ma allora quello che posso fare allora vado a valutare quello che è aggiuntivo e quel lavoro aggiuntivo se realmente i prezzi sono cambiati lo posso fare con il prezzario e poi è in vigore insomma è vigente per il momento io direi però scusate se no diventa un monologo dell'ingegnere presenziano che è sicuramente interessante però io siccome c'è anche un altro interlocutore che è l'agenzia delle entrate vorrei chiedere se vuole intervenire su quello di cui abbiamo discusso fino adesso o meglio di quello di cui sono arrivati i chiarimenti dall'ingegnere presenziano pronto prego l'agenzia delle entrate diciamo che noi ci eravamo strutturati un po' nel lasciar parlare presenziano e poi arrivavamo noi comunque posso tranquillamente cominciare a a discutere di alcune delle domande anche che lo stesso ingegnere aveva lasciato partirei un po' dalla fine quando si è discusso di sisma bonus ed ecco bonus io vorrei rimarcare il fatto che in molti interpelli dove si parla di interventi che possono rientrare in un ambito piuttosto che in un altro si è sempre detto che devono essere tenute distinte le fatture e quindi ci terrei a ribadire aggiungendo a quello che già ha detto l'ingegnere presenziano che va benissimo ma bisogna ricordarsi che la fattura deve riguardare l'intervento di sisma bonus e deve completare quell'intervento oppure la fattura deve riguardare successivamente l'intervento di ecco bonus e riguardare quell'intervento non può essere a mezzo perché altrimenti non funziona in questo caso allora condivido lo schermo ma credo che l'ingegnere dovrebbe lasciarmi libero al posto devo capire come si fa finché aspettiamo e io chiedo all'agenzia dell'entrata visto che diciamo sono stati loro a un po' sollevare la questione in fissi se sono consapevoli del fatto che la loro risposta avrà agevolato alcuni per molti invece ha interrotto l'incentivazione sui edifici guardi sulla risposta ho ascoltato anch'io con molto interesse la posizione dell'ingegnere presenzano devo dire anche per il ruolo che ricopro e quindi l'attività di assistenza io mi sentirei di dire quello che ha detto anche prima uno delle persone intervenute in precedenza e quindi non mi spaventerei nel fare gli interpelli nel senso che una situazione che si è andata oggettivamente un po' ingarbugliando perché perché come diceva l'ingegnere si parte dal principio generale che è quello del risparmio energetico e poi si cerca di non dico manipolare però di organizzare la lettura della norma in modo di cavarne il massimo possibile anche andando oltre quello che è lo spirito della norma e quindi sul discorso che è stato presentato prima ne presento solo nove ne presento nove più la porta finestra ecco io mi permetterei di presentare l'interpello ecco perché si fanno anche dei ragionamenti e si stimola anche una riflessione e delle volte come un po' è successo con quell'interpello 524 si va anche un po' oltre però dopo bisogna stare attenti di non andare a forzare lo spirito dell'interpello e andare a forzare la fattispecie dell'interpello cioè bisogna ricordarsi di guardare bene l'inizio dell'interpello il caso descritto la risposta è di quel caso non è che si può operare in analogia sempre anche se sembra simile non è corretto perché o è quel caso oppure c'è quella risposta oppure gli altri casi sono fuori non si può operare in analogia allora adesso solleva un po' quello che è i dubbi e le perplessità di tutti noi che operiamo nel settore che è quella che manca una delle fac corrette perché effettivamente sono delle risposte ma non sono diciamo impugnabili se non in parte quindi questo guardi io poi sulle fac sarei ancora più più transciante nel senso che l'interpello è comunque la risposta della divisione contribuenti è un per quanto riguarda l'agenzia delle entrate ed è una risposta che viene valutata viene valutata nel suo profilo giuridico nel suo profilo fiscale e quando è necessario soprattutto sul supermodus si vede sentito Enea sentito la commissione cioè c'è anche un tentativo di coordinarsi con con gli altri enti la fac la vedo quasi di un livello inferiore io non mi soffermerei troppo sul rilievo della fac almeno per quanto riguarda le situazioni fiscali gestite da agenzia delle entrate capisco che non è una risposta che forse può soddisfare tutti però è anche corretto sapere lo stato dell'arte la realtà ci sono delle situazioni che appunto ridico uno tende a guardarle per cercare di trovare il cavillo per andare oltre ma questo non è possibile dobbiamo sempre rifarci a quelle che sono le condizioni generali e ribadisco quello che ha detto l'ingegner Prisenzano cioè il super bonus non ha introdotto una nuova agevolazione ma ha aumentato l'aliquota di agevolazioni esistenti quindi quello che è stato detto per quelle agevolazioni la razio di quelle agevolazioni deve continuare a essere quella prevalente allora guardiamoci un po' la parte sulle pertinenze allora scusate si è aperta la slide le slide sbagliate eccole qua un attimo che vediamo ecco sì prego allora qui io avevo fatto una parte di intervento anche pensando ad alcune domande che non erano state presentate in precedenza ma anche tenendo conto dell'ampia platea che c'era stata preannunciata vediamo ritornare molto spesso in sede di assistenza e una di queste riguarda la demolizione e la ricostruzione e poi vengo a parlare anche della parte delle pertinenze dopo magari lasciamo la parola all'ingegnere presenziano o come ritenete voi insomma allora diciamo che la partenza è una nuova ehm diciamo è una nuova definizione della ristrutturazione edilizia perché si parte da qui perché spesso su demolizione e ricostruzione si perde il filo logico cioè quando si parla di demolizione e ricostruzione bisogna sempre partire dal fatto che il soggetto che è tenuto a rilasciare il titolo abilitativo la inquadri come ristrutturazione edilizia questo non è un problema di agenzie entrate spesso ci viene chiesto ci vengono proposti le cose più assurde ma mi dispiace dirlo ma deve essere il comune perché solo il comune o l'altro eventuale ente territoriale deputato a farlo può inquadrare la ristrutturazione con o senza demolizione all'interno della ristrutturazione edilizia allora vediamo il primo caso quello deciso già l'anno scorso insomma la ristrutturazione senza demolizione si dice chiaramente che intanto deve riguardare edifici esistenti ma soprattutto se non c'è la demolizione la parte dell'ampliamento non può essere considerata ristrutturazione edilizia e quindi è considerata ampliamento e quindi esce fuori da queste dalla possibilità di usufruire del bonus ristrutturazione o bonus super bonus fa eccezione un po' l'impianto fotovoltaico che è possibile si potrà beneficiare della detrazione per l'intera spesa anche sulla parte già esistente quindi quando ed era qui un po' anche riferimento che dicevo che in tutti gli interpelli si va a dire che le spese vanno tenute suddivise dalla parte della ristrutturazione perché quella è agevolata dalla parte relativa all'ampliamento che non è agevolata usando criteri oggettivi in questo caso si era detto anche che un criterio oggettivo potrebbe essere la proporzionalità dell'intervento i criteri oggettivi non sono determinati quindi quando uno è in grado di ricostruire che criterio ed è oggettivo è presumibile ritenere che non sia necessario andare a usare solo il criterio della proporzionalità quando riguarda parliamo di ristrutturazione con demolizione invece qui c'è una differenza se stiamo parlando di sisma bonus o di eco bonus perché la detrazione fiscale legata all'eco bonus non si applica alla parte eccedente il volume ante operam se invece stiamo parlando di sisma bonus ristrutturazione con demolizione spetta su tutte le spese qui io avrei messo un interpello di qualche giorno fa che su questo punto in realtà poco dice di nuovo perché dice esattamente che su sisma bonus su tutte le spese e la ristrutturazione ma la cosa interessante ed è qui che vi dico di quando si vanno a vedere gli interpelli bisogna sempre andare a vedere qual è il dato qual è il dato di partenza all'inizio si parla di un edificio demolito per uno smottamento nel 2011 l'intervento dice che è necessario andare per quanto riguarda l'ecobonus bisogna andare a evidenziare che ci sia un edificio dotato di impianto di riscaldamento ma questo interpello va un po' oltre e va a dire che appunto sentita Enea gli interventi di efficientamento energetico sulla base lo leggo insieme a voi giusto per non essere poco precisa sulla base di una relazione tecnica che stabilisca che nello stato iniziale l'edificio era dotato di un impianto idoneo a riscaldare gli ambienti sottoposti all'agevolazione in tali ipotesi non sarà necessario produrre l'ape iniziale quindi qua c'è un'apertura che credo possa far contenti insomma molti lascio la parte della assicurazione che avevo chiesto e magari non so la vedremo più avanti allora questa riguarda le spese ma magari se volete possiamo guardarla più avanti e qua andiamo a vedere la parte sulle pertinenze allora come già detto la parte quando si parla di edificio unifamiliare la pertinenza è rilevante per quanto riguarda i limiti invece quando si parla e qui stiamo parlando dell'interpello 397 per quanto riguarda gli edifici che sono da due a quattro che si comportano come condomini le pertinenze non vengono incluse nel conteggio del di questo limite il caso adesso vediamo questo è l'interpello 608 che avevate anche voi già evidenziati abbiamo un'unità immobiliare a due abbiamo un garage c6 e abbiamo un'unità immobiliare a due in questo caso e con il cambio di destinazione e la richiesta è anche per il cambio di destinazione ed uso del garage accorpandolo all'unità abitativa situata al piano terra allora in questo caso andando a rivedere anche la risposta della commissione finanze si fa riferimento come limiti a quelli iniziali rispetto agli interventi edilizi e quindi in questo caso andremo a evidenziare la situazione prima dell'accorpamento una cosa particolare di questo interpello che forse non è stata evidenziata è che quando si parla da due a quattro unità immobiliari si dice in questo caso l'edificio viene considerato come un condominio ma questo interpello fa presente che per i condomini è stato determinato che possono prorogare diciamo la fruizione della detrazione del 110 per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 in questo interpello si ribadisce che quando è questo il caso cioè edifici composti da due a quattro unità immobiliari anche se posseduti da un unico proprietario in comproprietà non vale la regola dei condomini e quindi è necessario che per almeno il 60 per cento del lavoro complessivo l'intervento sia sostenuto entro il 30 giugno 2022 e quindi il resto può essere fatto entro il 31 dicembre invece appunto per i condomini diciamo normali non c'è la necessità di raggiungere questa quota del 60 per cento entro il 30 giugno questo qua stavo vedendo no vabbè questa è la parte dell'interpello sulle finestre che avevamo già già visto mi scusi per tornare al caso precedente è chiaro che il 60 per cento deve essere comunicato Enea quindi con un sal è corretto eh sì direi di sì non era mai stato specificato questa cosa era intuibile però volevo insomma fammelo dire allora poi ne parlerà anche la collega più diffusamente sui sal in realtà le cose non sono chiarissime e e quindi vabbè lascerei forse la parola però in questo caso mi sentirei di dire di sì scusi tornando alle pertinenze sì quindi per chiarire una volta per tutte l'unifamiliare sicuramente l'ha escludo da qualsiasi calcolo da poter moltiplicare anche i condomini minimi da due a quattro giusto? Nei condomini minimi da due a quattro le pertinenze non vengono conteggiate per farlo rientrare nel limite da due a quattro ma sono conteggiate per considerare il limite massimo diciamo che quando si ha un edificio dove si ha un una due e un C6 pertinenziale e si ha un C2 che non è pertinenziale in questo caso si considera comunque un edificio che ricalca diciamo la disciplina di quelli da due a quattro perché la pertinenza non è pertinenza è un'unità immobiliare distinta in questo caso ci si bisogna però riallacciare al discorso che faceva prima l'ingegnere Prisinsano per cui complessivamente dobbiamo considerare che la residenzialità deve essere superiore al 50% altrimenti non non si ha la possibilità di intervenire sul la spesa non può essere considerata per tutto l'edificio ma soltanto per le parti relative alla parte residenziale io direi che se non volete che magari approfondiamo un attimo il discorso dell'assicurazione io eventualmente lascerei di nuovo la parola scusi se posso di nuovo chiederle quindi se io prendo un edificio con due appartamenti e un garage quindi dimostro che ho una superficie minore per la parte non residenziale io potrò moltiplicare per tre sì ok grazie guardi in realtà vediamo se vediamo se l'avevo questo è un altro interpello questa è un'altra cosa che forse potrei anche dirla subito questo interpello qui sempre un'altra domanda che è un po' fuori da quello che avevate presentato ma credo che possa avere una valenza generale perché ci viene fatta continuamente e riguarda le spese che vengono deliberate dal condominio ma vengono suddivise in maniera diversa il caso è il condomino che non vuole o non può partecipare alla spesa e ci viene chiesto è possibile non è possibile cosa deve fare il condominio eccetera qui c'è anche qui un interpello molto recente anche questo di qualche giorno fa dove proprio l'istante è una pubblica amministrazione che sta facendo un'opera di dismissione dei beni pubblici e si arriva ad avere un condominio misto quindi si ha una parte di appartamenti tra l'altro era un condominio molto grande sopra i 100 unità immobiliari e una parte dove si ha la proprietà privata e una parte si ha la proprietà pubblica la proprietà pubblica non può utilizzare il super bonus e non è interessata a fare questi interventi ma il resto dei condomini effettivamente potrebbero essere interessati in questo caso l'interpello arriva si può determinare che le spese vengano ripartite non in base ai millesimi ma a diversi criteri questo diceva già anche la circolare l'importante è che i condomini che andranno a subarcarsi la spesa siano presenti all'assemblea e siano anche favorevoli qui ho un po' riepilogato quelle che sono le disposizioni che sono state aggiornate per quanto riguarda le delibere assembleari e quindi cosa succede che in particolare poi il condomino e i condomini possono manifestare appunto in sede assembleare l'intenzione di accolarsi l'intera spesa e se succede qualcosa ne risponderanno i condomini che hanno usufruito del super bonus anche questo è secondo me un chiarimento che potrebbe sbloccare molte situazioni almeno quelle che arrivano alla nostra attenzione dove magari c'è il condominio con il condomino anziano che non vuole partecipare tutti gli altri sì e si trovano in realtà bloccati non è proprio così è chiaro che gli altri condomini dovranno sostenere la spesa anche per l'altro però insomma c'è una soluzione io lascerei forse la parola al dottor presenza all'ingegner presenzano poi se volete ci fermiamo un attimo per per parlare del avevo fatto due piccoli acceni all'assicurazione oppure se no vediamo direttamente la parte della cessione dello sconto ditemi voi insomma sì io finirei quasi quasi con presenzano che così ha alcuni diciamo cose pratiche proprio da mostrarci e poi magari ritorniamo su quello che è invece la parte sconto di fattura sì va bene ok allora se è possibile riavere l'ingegner presenzano eccoci riprendiamo la nostra chiacchierata a proposito di prezzi e concretà mi sembra che siano rimaste alcune domande che sono particolarmente diciamo più dedicate diciamo al lato pratico quindi le legge pure lei se vuole poi magari noi chiediamo alcune informazioni aggiuntive nel caso ci fossero sì mi scuserete ma questa domanda non mi è chiara non ho capito bene il significato sì allora questa domanda era volta a far capire noi tecnici almeno uno un metodo diciamo di 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 prezzo fatta congruamente o che Enea ritiene congrua poi magari ne aggiungo altre altre ipotesi e le chiedo di di commentarle se è possibile ma guardi questo è un terreno un po' strano non è che esiste un manuale o un riferimento è proprio per quello che chiedevamo magari un confronto anche solo opinionistico della cosa nel senso che noi ci troviamo a doverlo fare e nessuno ci dà nei limiti del buon senso e quindi della assolutamente assolutamente e quindi della paragonabilità dei costi la cosa tutto sommato è accettabile però è chiaro che se il costo unitario tento di giustificarlo e mi raddoppia insomma qualche perplessità viene insomma ma come vai fatto quando si fa un calcolo analitico bisognerebbe andare a vedere analiticamente quale sono state le ore di lavoro coinvolti perché e come insomma però non c'è un riferimento ma voglio dire una cosa se per esempio un infisso il costo medio è di 600 euro al metro quadrato e poi me lo ritrovo a 1.2 perché ho fatto una costruzione analitica il dubbio che quel che per prezzo terminato in quel modo non si è equilibrio viene insomma poi caso per caso magari ci potranno essere casi particolari dove il raddoppio del costo dell'infisso non facendo così come sempre ci possa essere giustificato ci possono essere casi particolari dove effettivamente si giustifica il perché si è arrivato a quel prezzo però a quel punto deve essere il tecnico a dimostrare a mettere in campo delle argomentazioni di valide a sostegno di di quella variazione consistente di prezzo io più di questo non riesco a dire francamente sono cose che non si sbilanzia più di tanto le chiedo un'altra cosa è un terreno questo poi l'esperienza pratica in serie di verifiche vedremo quali sono cioè è chiaro che il tecnico nel momento in cui un prezzo diciamo si discosta di parecchio rispetto alla media deve cercare delle motivazioni valide che magari in molti casi ci possono essere ma deve essere il tecnico a trovare quelle motivazioni che giustificano il perché il prezzo in quel caso risulta notevolmente differente sì la cosa è chiaramente non su prezzi ma che già esistono ma su componenti che per forza di cose si evolvono e hanno diverse caratteristiche chiaramente è certo e anche lì bisogna andare a fare e capire quali sono le voci che hanno concordato le persone io su questo francamente non me la sento dicare giusto per incalciarlo come dire fare una cosa che verificheremo di volta in volta ragionandoci però intanto noi li mandiamo comunque un'altra cosa se noi dovessimo usare ad esempio perché la norma e i decreti citano solo il DEI e i prezzari regionali competenti un'analisi di prezzo può essere quello di prendere un componente che non c'è nei due e magari della camera commercio competente o vicina è tollerabile è plausibile non è considerato io mi attengo alle parole del decreto che dice che nel caso in cui i prezzari non contengono riferimenti per quel tipo di intervento si può utilizzare anche l'allegato I come riferimento dove per le varie tecnologie ammesse c'è un costo massimo di tario indicato e poi basarsi sui contenuti di quell'allegato I non è che non c'è nessun riferimento ci sono i prezzari nei casi in cui i prezzari non contengono riferimenti affidabili si può utilizzare faccio un esempio intervento di installazione di un impianto di micro cogenerazione probabilmente deve essere un intervento che non si trova e allora come si fa si fa che su il costo a kilowatt di potenza termica installata o di potenza elettrica secondo me adesso non ricordo qual è il riferimento esatto comunque il costo a kilowatt di potenza è indicato all'allegato I che costituisce un punto di partenza e quindi partendo da quanto riportato nell'allegato I posso aggiungere altre voci altre considerazioni ovviamente giustificate e da informare il prezzo non è che non c'è nulla quindi o mi baso per giustificare i prezzi che poi i prezzati o l'allegato I si usano per giustificare il prezzo sostenuto non per formarlo perché la prima cosa da fare è andare a vedere cosa è il mercato e qual è il costo e quello poi vado a vedere se il prezzo è congulo oppure no per vedere se è congulo vado uso i prezzati della regione della DEI o l'allegato I se non ho altri riferimenti perfetto grazie altra cosa che è un aspetto generale che c'è nei modelli di asseverazione i modelli di asseverazione che cosa fanno e il nostro sito che cosa fa prima inizialmente tende a verificare se le spese che vengono imputate siano inferiori o superiore alle spese massimissime la spesa massima di siti che viene determinata per il nocone del numero di unità immobiliari se si tratta di un unificio immobiliare oppure della spesa massima di siti del capito e dice unicaniare quindi la prima cosa è spesa massima ammissibile di lavoro sulle parti opache per esempio su cui calcolare la relazione è pari a e questo è un dato in automatico che la procedura determina tenendo conto anche delle unità per esempio o che il costo complessivo previsto in progetto dei lavori sulle parti opache in questo caso ammonta in a ora questo costo complessivo teoricamente potrebbe anche essere superiore alla spesa massima massima in generale può capitare a seconda delle circostanze che magari si sostengono costi superiori a quelli massimi massimi ovviamente nella voce successiva che è una cosa più piccolina perché non è ingrandita perché non sono stati compilati gli altri cani il passo successivo è la spesa ammessa e qui ci andrà il minimo tra la spesa tra il costo massimo di istituto e il costo di progetto e quindi si determina la spesa ammessa e ovviamente è il minimo tra il costo di progetto e la spesa massima di istituto poi si dice il costo dei lavori realizzati cioè ad oggi nel momento in cui stai compilando questa asselerazione quanto hai fatturato su questo intervento che qua quello che si scrive qua deve corrispondere a una fattura ovviamente l'importo di questa fattura va confrontato sempre con i costi massimi ammissibili e ovviamente si determinerà in questa voce di cui è ammessa qui ci andrà il minimo tra l'importo della fattura e l'importo del costo massimo è chiaro che a fine lavori questa voce sarà uguale al costo complessivo previsto in progetto alla fine durante i sal lo possono difendere ma nello stato finale questa qui il costo dei lavori realizzati e il costo complessivo previsto in progetto ovviamente devono vincere questo è il criterio tutte le altre domande successive sono simili ma se si acchiarono questi concetti sono poi diciamo il resto sono considerazioni banali possono essere fatte qui si ha il caso del sal al tendere del centro del proprio congiuto quindi c'è un sal al 3 superficie totale disperdente oggetto dell'intervento 100 metri quadrati da qualche parte si è dichiarato pure qual è la superficie disperdente compressiva interverendo sull'involucro la procedura va a sommare tutte le superfici oggetto di intervento e verifica che sommandole si ottenga un risultato che sia maggiore o uguale al 25% altrimenti l'intervento non può essere trainante se è trainato questa verifica che è la spesa massima ammissibile dei lavori sulle parti opache su cui rafforzioni fiscali è pari a 50.000 evidentemente qua siamo nel caso di una casa monofamiliare di un edificio familiare a sé stante che il costo complessivo previsto in progetto dei lavori sulle parti opache è 10.000 se non leggo male e quindi siccome questo valore è inferiore a 50.000 della spesa massima ammessa è tutto il costo dei lavori realizzati è pari a 3.000 e quindi sono tutti ammessi perché questo 3.000 è inferiore a 50.000 ovviamente deve essere anche inferiore alla spesa di progetto comunque va a fare questa verifica prende il minimo tra questo valore il costo che vuole realizzare e la spesa massima ammessa è molto semplice non è che compilazione pratica eneva qui che cosa c'è l'altra cosa sia a fine lavoro computometrico 11.000 spese sostenute 12.000 qui di solito dovrebbero coincidere il computometrico che sono il conteggio fatto all'inizio del lavoro basato sulle cose che abbiamo detto prima poi non lo so ci sarà qualche motivo per cui poi si sostiene di più ma si diciamo che la razza di questa domanda non dovrebbe succedere insomma la razza di questa domanda era proprio per quello cioè nel senso c'è chiaro quando laddove superiamo i massimali ma laddove diciamo i prezzari per mille motivi vengono fuori un prezzo inferiore a quello che alla fine dobbiamo sostenere come dobbiamo compilare questa parte ma scusate io dico una cosa e lo ripeto all'inizio dei lavori si è stipulato un contratto o no ma è chiaro è chiaro che laddove un cliente si vede diciamo quantificare un 12.000 euro su un importo massimo di 11.000 euro può anche accettare e pagare i 1.000 euro in più e l'unica cosa che il portale io credo che non dovrebbe succedere insomma nel momento in cui si stabiliscono i lavori si fa un contratto si dà l'appalto a quel punto un aumento del prezzo non dovrebbe più esserci quindi nel momento in cui ho definito inizio per quale motivo poi deve nascere questo le faccio le faccio l'esempio degli ultimi preziari dei che non contemplano il triplo vetro hanno un prezzo al metro quadro che chiaramente è derivato da un doppio vetro con 1,3 di trasmittanza dove uno volesse andare a 0,8 e pagare la differenza in più come può fare? ma scusate ma prima dell'inizio dei lavori occorre fare un progetto occorre verificare anche un'altra cosa che complessivamente tutti i lavori riescono a far conseguire il miglioramento delle due classi quindi in via preliminare tutti gli interventi che devono essere revisti pianificati e quantizzati a quel punto so quali sono gli interventi da prendere in consenso so che con quegli interventi ottengo miglioramenti di classi a quel punto parto nei lavori ma faccio un contratto o lo faccio così amichevolmente iniziamo e poi questa è una cosa che non capisco se faccio un contratto i prezzi già sono bloccati basta per quale motivo poi in corso d'opera una finestra che dovevo pagare 1000 euro la devo pagare 1200 euro non è una cosa che non capisco non è che deve pagare 1000 euro è che il preziario mi dà 1000 euro come costo ma che c'entra il preziario il preziario io già l'ho sviluppato l'ho utilizzato inizialmente poi il preziario può cambiare 3000 volte ma non me ne frega più 1000 scusi facciamo un esempio pratico voglio cambiare un infisso ok il preziario mi dice che ho un prezzo di 1000 euro per quell'infisso lì trovo uno che me lo installa per 900 sono tranquillamente e lei metterà nel computometrico 900 perfetto o la moglie che perché vuole la maniglia d'oro vuole spendere 1500 per la maniglia il prezario ne passa 1000 una volta che parte il contratto e sta finito e come poi che poi il desiderata sono altre cose cioè qui l'obiettivo è per quello che le dico i 500 euro in più del desiderata come è ammissibile ma qui può anche non dichiararla le pagherà a parte non c'è bisogno neanche di dichiarare che ce ne frega cioè qui il problema è di vedere ok facciamo una fattura a parte dell'eccedenza perfetto quindi mi conviene fare una fattura a parte e neanche metterli qua non ha senso perfetto grazie era proprio quello che volevamo capire c'è altre no poi qui non so anche questo è simile insomma sono tutte simili io credo di aver spiegato quale è la razio di queste di queste parti come si riempiono cioè bisogna prima la procedura va a individuare qual è il costo massimo possibile dopodiché si dichiarerà qual è il costo previsto in progetto ovviamente pianificato già con tutti calcoli fatti con la verifica che i costi siano comuni e quindi non superiori a quelli previsti da prezziare o con la costruzione analita tutto quello che è la spesa ammessa ovviamente la procedura prenderà il minimo tra quello ammesso e quello di progetto e poi qui ci vanno i costi che sono stati dei lavori realizzati quindi già fattorati a fine lavori i prezzi realizzati con quelli in progetto con il generale tutto per quanto riguarda qui c'è un esempio di come stimare i costi non emergenti i prezziare dai prezziare i prezziare i prezziare le fatture questo risponderà all'agenzia di entrate poi credo ecco qui ci interessano più rispondiamo noi l'ultima cosa che potrei dirvi sì sì questo ovviamente è un aspetto di scatto l'ultima cosa che potrei dirvi ecco da un punto di vista tecnico nel caso di demolizione e ricostruzione perché non ha tanto senso chiedere anche l'amme iniziale nel caso di demolizione e ricostruzione l'intervento si configura anche come ristrutturazione rilevante voi sapete che senza del decreto requisiti minimi esistono ristrutturazione importante di secondo livello riqualificazione ristrutturazione importante di secondo livello è quando si interviene su almeno del 25% della superficie dell'olta del 50% quando si interviene su più scusate di primo livello quando si interviene su più del 50% della superficie di stelo perdente e si fa anche contemporaneamente la ristrutturazione dell'impianto termico poi esiste un'altra definizione che si chiama ristrutturazione rilevante definito dal decreto legislativo 28 del 211 che consiste che consiste anche per esempio nella dimozione e ricostruzione di un intero edificio o quando si interviene in manutenzione straordinaria sull'edificio sicuramente più di mille metri quadrati di superficie ma sicuramente il caso di demozione e ricostruzione rientra nel caso di ristrutturazione rilevante che cosa indica questo che quando si è di fronte a una ristrutturazione rilevante occorre rispettare le prescrizioni previste dal decreto legislativo 28-211 e cioè che bisogna soddisfare i fabbisogni energetici per produzione d'acqua calda riscaldamento invernale e condizionamento estivo per almeno il 50% bisogna fare ricorso a fonti rinnovate bisogna soddisfarle con fonti rinnovate tenuto conto anche che dal primo gennaio 2021 sono entrati in vitore i criteri più stringenti sui valori delle trasmittanze da adottare per l'edificio di riferimento e tenuto conto che una ristrutturazione rilevante è sicuramente importante di primo livello per l'importante di primo livello si applicano i requisiti previsti per le nuove costruzioni mettendo le cose assieme il risultato sapete qual è che nel caso di demolizione e ricostruzione l'edificio alla fine deve essere edificio n0 edificio ad energia quasi zero cioè si sta raggiungendo il massimo in termini di classificazione ora qualsiasi desiderio dell'edificio che viene demolito e ricostruito e quindi in uno stato ovviamente pietoso sicuramente lì è fuori discussione che il superamento di due classi energetici c'è in abbondanza in ogni caso siccome è demolizione e ricostruzione contro il decreto senza il confronto non ha più tanto senso invece negli altri casi è opportuno fare il confronto tra prima e dopo concetto che va sempre tenuto presente quando si fanno interventi di efficienza energetica c'è sempre una cosa da tenere un confronto tra ciò che c'è prima e ciò che c'è dopo e qui devo fare valutazioni in termini di risparmio energetico conseguito con l'intervento per concludere direi che esponiamo l'ultimo quesito che era quello un po' più complesso e un po' più articolato e poi in caso lasciamo rispondere anche agenzia delle entrate che penso sia più chiamata in causa se potete proiettare l'ultimo quesito e qual'era quello sulle tempistiche no quello è l'agenzia delle entrate sì sì esatto ma volevamo esporlo alla platea prima di passare la parola a meno che l'agenzia delle entrate non abbia programmi diversi ce l'abbia già allora io avevo preparato un po' di slide su mi sentite sì avevo preparato poche slide sulle problematiche più rilevanti nella cessione del credito per alcuni quesiti che sono stati fatti effettivamente richiedono forse un approfondimento su non sulla cessione di cui abbiamo già parlato ma appunto sulle parti più problematiche quali sono gli errori più comuni cui mi viene chiesto come può fare un tecnico che vuole effettuare lo sconto in fattura ritrovarsi il credito sul cassetto fiscale c'è una serie di domande che forse io ho preparato le slide magari saltiamo quelle che si possono interessare di meno e per esempio avevo puntualizzato gli errori che vediamo più comuni sulle pratiche di cessione del credito che creano non pochi problemi ai clienti oppure a volte anche ai cessionari che acquistano i crediti o i fornitori poi non riescono a cederli alle banche perché le banche trovano degli errori sulla pratica se per lei va bene le chiederei visto che il tempo stringe sono già le 6.20 passate se riusciamo a fare la domanda che un po' ci preme anche sulle tempistiche anche perché insomma allora le tempistiche lo schema che ci avevano legato alle domande mi sembra un po' a capire allora la mia collega glielo illustra così illustra un po' la platea anche quella che è la domanda le spiego i quesiti che ci sono arrivati che abbiamo cercato di inserire tutti nella stessa slide perché erano tutti relativi alle tempistiche l'idea era quella di prendere un esempio gli edifici unifamiliari che al momento hanno la scadenza delle spese sostenute al 30 giugno dell'anno prossimo quindi c'è arrivato ad esempio il quesito che vengono iniziati i lavori ad esempio a febbraio a maggio fanno il primo sale al 30% e sanno di aver al 30 giugno acquistato un 80% delle spese complessive il classico esempio è cambio la caldaia metto un sistema ibrido compro intanto dal fornitore il generatore ma alcune ore di posa quelle che lui prevede ma in realtà successivamente al 30 giugno vengono effettuati i lavori e lui mi farà una successiva fattura che è dopo il termine in cui io posso farlo io ho capito qual è il senso anche quell'altro quesito che è arrivato un paio di giorni fa sull'acquisto delle case antisismiche abbastanza analogo in prossimità della scadenza compro qualcosa di sostanzialmente non ancora concluso giusto non veniva da voi esatto perché l'asseverazione finale è comunque nostra io non potrei asseverare successivamente e intanto non so quanto successivamente voi mi concedete di asseverare io non potrò mai asseverare che con il 100% delle fatture sono riuscita a concludere i lavori ma in realtà o meglio con il 100% sì ma con quell'80% che rientra nella detrazione io non ho concluso i lavori quindi capire se comunque funziona e quindi il 20% il cliente se lo pagherà a parte oppure cosa dobbiamo inserire allora teniamo distinte l'acquisto delle case antisismiche che è tutto un altro argomento se riesco magari appunto vi faccio un cenno rispetto all'altra tipologia di interventi cioè interventi praticamente di super bonus in cui appunto faccio la cessione del credito a sal e insomma si vede un po' che cosa succede ok allora questo qui lo saltiamo perché era una presentazione erano alcune raccomandazioni che volevo fare per esempio questa qui in arancione con cui sottolineo che la comunicazione di cessione del credito all'agenzia delle entrate non costituisce la cessione la cessione è qualcosa di già avvenuto prima è di fatto un contratto fra le parti che sono state già individuate hanno sottoscritto un accordo di cessione del credito o di sconto in fattura che è già efficace fra le parti comunicarlo all'agenzia delle entrate vuol dire rendere efficace anche nei confronti di un terzo che è sostanzialmente il debitore principale questo accordo ma la premessa è che esista già un accordo di cessione del credito perché a volte ci arrivano casi di contribuenti che ci hanno comunicato cessione di crediti che poi in realtà non sono mai avvenuti e questo è molto grave perché vuol dire che non si è affatto attenzione a questa cosa cioè la cessione del credito non è la comunicazione all'agenzia delle entrate è un accordo fatto dalle parti che viene poi comunicato all'agenzia delle entrate successivamente perché l'agenzia delle entrate lo riconosca al cessionario sostanzialmente comunque andiamo avanti ecco io mi vorrei fermare su questa disposizione che è quella dei SAL i SAL sono chiarimenti siamo ancora in attesa di chiarimenti sulla portata dei SAL cioè su cosa significhi un SAL anche all'interno che praticamente magari mi va a finire in un altro periodo di imposta era un quesito che è stato di cui abbiamo parlato prima con un ingegnere che praticamente diceva sappiamo che c'è un interpello della direzione regionale che dice sostanzialmente che il 30% deve essere raggiunto entro il periodo di imposta un 30% raggiunto nel periodo di imposta successivo magari entro il termine per l'invio della comunicazione che è il 16 marzo permette o no di cedere il credito maturato nel periodo di imposta in cui magari avevo raggiunto non il 30% ma un 25% e la risposta di questo interpello che però non è pubblicato d'accordo quindi ha la valenza che ha riguardo a solo quello specifico caso e non possiamo prenderlo come riferimento generale è no il SAL deve essere raggiunto entro il periodo di imposta per il SAL dicevo ci sono parecchie problematiche non ultima il fatto che la norma dice che il credito è cedibile a SAL e che per il superbonus ci sono massimo due SAL ma la norma significherebbe così che tutti gli interventi richiederebbero un SAL ok anche su questo ci sono delle osservazioni in corso c'è stata un'interrogazione parlamentare nel corso nel quale è stato detto no per gli interventi diversi dal superbonus non c'è bisogno del SAL bastano le fatture però in realtà fino a che non esce un chiarimento specifico e pubblicato dall'agenzia dell'entrada io prenderei un po' con le pinze questo fatto di cedere crediti che non sono ancora maturati a SAL allora la norma dice che i SAL non possono essere più di due e che ognuno deve raggiungere almeno il 30% dell'intervento complessico agevolabile gli stati di avanzamento lavori vengono inviati inseriti nella comunicazione più o meno le domande che voi mi fatte sono queste penso di aver se ho capito bene quanti spese posso cedere per ogni SAL sostanzialmente lei mi dice io raggiungo magari una certa percentuale ma siccome siamo ridosso della scadenza e la detrazione va per cassa io acquisto tutto quello che posso prima della scadenza in modo da avere il 110% il lavoro però ancora non è inconcluso se io vedo la norma leggo che la cessione avviene per SAL questo è sicuramente certo per quanto riguarda le detrazioni al 110% a questo punto quando raggiungo il SAL quanto posso cedere quanto ho cristallizzato posso cedere in questo caso io farei secondo me riferimento al principio per cui l'articolo 121 nel decreto di lancio mi richiede il SAL perché richiede il SAL perché dobbiamo renderci conto del fatto che nel momento in cui l'agenzia dell'entrata riconosce dei crediti ai fornitori o ai cessionari magari il terzo quarto o ventesimo cessionario c'è un movimento di denaro che verrà riconosciuto automaticamente dall'agenzia dell'entrata a questi cessionari successivi perché appunto la norma dice che nel caso in cui la detrazione non aspetta il credito viene recuperato in capo al beneficiario principale quindi ci sono varie cessioni che avvengono sulla base di qualcosa che ancora non è concluso perché nel momento in cui la norma mi apre alla cessione del credito a SAL anziché aspettare la conclusione dei lavori vuol dire anticipo qualcosa e metto in giro un movimento di denaro sulla base di qualcosa che ancora non esiste questo principio mi significa che i SAL servono a quantificare a certificare che il lavoro si sta svolgendo che si sta svolgendo in maniera conforme al progetto e a quantificare il valore del lavoro che è stato fatto qui in quel momento sulla base di questo principio è vedendo quello che dice quello che è pane per i denti del dottor Pesinzano cioè il decreto asseverazione ecobonus in cui mi dice che appunto l'asseverazione può riguardare anche il stato di avanzamento lavori e poi dice io per lo meno lo leggo così ok a riguardo non ci sono chiarimenti ufficiali io posso dare una mia lettura di quello che è la norma in questo momento nel caso di asseverazione di uno stato avanzamento lavori il tecnico assevera eccetera eccetera invia l'Enea l'Enea risponde con il codice identificativo della domanda che permette la compilazione della comunicazione di cessione del credito questo codice identificativo è abilitante all'accesso alle opzioni riguardo articolo 121 quindi cessione del credito e sconto in fattura per un ammontare massimo che corrisponde al valore economico dello stato avanzamento lavori dichiarati ora è vero che se io inserisco nella pratica di asseverazione tutte le fatture pagate posso fare entrare anche materiale che ancora non ho usato ma nel momento in cui si parla del valore economico dei lavori effettuati secondo me forzare la norma in modo da comprare tantissimo materiale e farlo rientrare in un saldo dove alla fine invece il direttore dei lavori quantificando il valore dei lavori dovrebbe quantificare quello che effettivamente è quel momento secondo me questo questo metodo che può essere a cui si può ricorrere per cercare di massimizzare la detrazione comprando tutto il possibile entro la scadenza del termine secondo me non ci sta ok ripeto è un'opinione basata sulla lettura di quello che è il decreto quando mi dice che a sal il sal mi permette di cedere il credito che corrisponde al valore economico dello stato avanzamento lavori questo è quello che io penso riguardo a questo quindi lo schema che avete fatto voi secondo me per quello schema va fatta molta attenzione cioè ripeto il principio del sale è questo lo stato anticipa dei soldi che poi cominceranno a circolare con tutte le cessioni successive i cessionari cominceranno a loro volta a usarlo o a cedere la loro volta sulla base di interventi che ancora non si sono conclusi e quindi secondo me quello che si può cedere riguarda esclusivamente i lavori effettivamente eseguiti non l'accumulo di materiali che si sono stati fatti o l'accumulo di pagamenti di prestazioni magari non ancora eseguite ok questo è ripeto l'opinione sulla base di quello che secondo me è il principio della norma e quello che dice il decreto del mese del 6 agosto 2020 qui ho fatto un po' sicuramente modo che voi riconoscete molto meglio di me dove si parla sempre del valore del sal ok quindi gli interventi il corso complessivo degli interventi realizzati per interventi realizzati intendo questo secondo me interventi realizzati non quello che ho pagato che ho già pagato anche se gli interventi non sono ancora stati realizzati non so se ho capito la domanda e se è stata comprensibile una parte di domanda è giusta io le faccio la seconda parte di domanda teniamo questo esempio monofamiliare al 30 giugno finisce tutto io ho la possibilità al 28 giugno di presentare la CILAS al 29 di pagare 100.000 euro di cappotto la norma mi parla di spese ammissibili quindi le ho pagate entro alla fine di giugno però mi dice tu puoi presentarmi l'asseverazione laddove è finito gli interventi quindi non facciamo SAL ma non mi dice di finire gli interventi al 30 giugno mi dice che sono i costi ammessi quindi in teoria io ho da fine lavori che possono essere anche a settembre ottobre successivi 90 giorni per poter fare la pratica le due domande che sorgono è quanto in là rispetto al 30 giugno è possibile fare la fine dei lavori e se questo caso estremo è ammissibile non so se l'ha capito si l'ho capito quindi diciamo al di là della possibilità di cedere il credito se maturo la detrazione semplicemente pagando tutto io non cedo niente perché appunto non mi si è cristallizzato niente che mi permetta di cederlo sulla base di quello che ho detto quando posso finire i lavori allora sul punto ancora non ci sono chiarimenti vediamo anche all'approssimarsi di questa scadenza se ci saranno ulteriori chiarimenti in via di principio quando durante il passato alcune detrazioni sono passate da una percentuale all'altra si è sempre fatto riferimento al criterio di casta cioè al momento in cui è stata pagata la spesa ok per quanto riguarda entro quanto tempo devo terminare i lavori perché tutto mi stia in piedi a parte sempre nel decreto del 6 agosto del 2020 non mi risulta che ci sia altro se non appunto le abilitazioni amministrative che hanno una scadenza anche in questo caso per quanto riguarda il termine dei lavori il decreto del MISE dice che l'asseverazione relativa al termine dei lavori deve essere trasmessa all'Enea entro 48 mesi dall'asseverazione dei STAL in caso contrario l'Enea comunica all'agenzia delle entrate la mancata conclusione dei lavori per il seguito di competenza questo è quello che dice l'articolo 4 del decreto asseverazione ecobonus a parte il fatto che non è pertinente però sono 4 anni cioè nel senso lei si sentirebbe di dirmi che 4 anni sono subito io non sto dicendo questo sto dicendo che attualmente l'unica norma in cui viene posto un termine per la conclusione dei lavori diciamo in diretta è questa non ci sono altre indicazioni a riguardo secondo me è necessario attendere chiarimenti ulteriori d'accordo all'approssimarsi della scadenza del 30 giugno ci saranno dei chiarimenti che prenderanno in considerazione cosa fare con gli interventi che sono rimasti a metà naturalmente nella consapevolezza che il ragionamento posto cioè comprare tutti i materiali pagare il più possibile 110% nel timore che dopo non ci sia più ne verrà tenuto conto ok cioè attualmente non possiamo andare oltre quello che c'è scritto nella norma la norma lascerebbe aperte molte porte però io non mi sento di come dire per me cioè di dare per scontato che ciò sarà possibile ok ok perfetto grazie allora per quanto analogo quesito era stato opposto per quanto riguarda se è possibile scusi dottoressa in sala abbiamo una domanda pertinente quindi ne faccio fare giusto un chiarimento a proposito dello stato di avanzamento lavori del 60% al 30 giugno quindi se ho capito bene se io nel progetto includo delle finestre che compro in tempo e pago prima del 30 giugno per un importo considerevole perché comunque altrimenti le finestre non vengono neanche consegnate quindi parliamo di importi magari del 70% questa fattura diciamo pagata al fornitore non conta a livello di stato di avanzamento lavori sulla base di quello di come è formulato il decreto mio parere no però ripeto dobbiamo tenere presente che quello che sto dicendo è un parere d'accordo non ci sono chiarimenti ufficiali a riguardo anche in questo caso io auspico e credo che all'approssimarsi della scadenza verrà chiarito anche come calcolare questo 60% e se andrà sicuramente secondo me andrà in qualche maniera asseverato il raggiungimento del 60% alla scadenza del 30 giugno e cosa sia possibile far entrare ripeto la problematica del sale è una problematica abbastanza importante rilevante e che contiene ancora dei punti incerti quindi sono siamo perfettamente consapevoli che c'è l'esigenza di avere più carezza su alcune questioni però oltre quello che c'è scritto nei documenti ufficiali nei decreti nelle circolazioni interpelli che purtroppo interpelli sull'accessione del credito e sostanzialmente non ne sono ancora usciti a parte uno solo che però non è rilevante in questo senso non c'è altro io diciamo ho quello che ho potuto fare è andare a cercare nella normativa attualmente esistente nelle indicazioni attualmente esistenti cosa ci può aiutare a capire come appunto quantificare i lavori eseguiti per i sal soprattutto per quanto riguarda il credito cedibile grazie analogo acquisito è stato posto sull'acquisto di carri antisismiche quindi assimea quindi praticamente il cosiddetto sisma bonus acquisti ok articolo 16 comma 1 septi decreto 63 anche qui è una detrazione già esistente è aumentata al 110% per effetto dell'articolo 119 la caratteristica di questa detrazione prevista appunto dal comma 1 septi è quella che la detrazione non spetta sul valore delle spese effettuate ma sul prezzo di acquisto dell'immobile da parte di chi acquista l'immobile sostanzialmente ed è uno dei casi tra cui è proprio previsto oltretutto l'aumento di volumetria sostanzialmente la norma dice è prevista la possibilità di detrarre il 75-85% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare a condizione che le imprese di costruzione o ristrutturazione provvedano entro 18 mesi che adesso sono diventati 30 dalla data di conclusione dei lavori alla successiva alienazione degli immobili sappiamo che il Veneto è passato da poco in classe sismica 3 in zona sismica 3 quindi ovviamente la cosa è diventata ancora più rilevante il sismabonus ordinario scade alla fine dell'anno se non ci sono proroghe il supersismabonus scade anche questo il 30 giugno ci sono molti interpelli dell'agenzia delle entrate sul sismabonus che hanno chiarito soprattutto alcune questioni relative alle varie asseverazioni il quesito che viene fatto è posso in molti interpelli l'agenzia delle entrate dice la maggior detrazione il 110% è possibile a condizione che il rogito di compravendita dell'immobile venga stipulato entro la scadenza dell'agevolazione quindi il 30 giugno 2022 a questo punto allora la domanda è posso vendere sostanzialmente un immobile al grezzo e concludere i lavori successivamente se ho capito bene e mi si cita per giustificare questa domanda due interpelli 688 soprattutto molti interpelli a dire la verità ma quelli secondo me che forse potevano in qualche maniera più fondare questa domanda era il 191 e l'ultimo il 688 del 2021 allora nessuno dei due in realtà secondo me permette questo cioè di acquistare l'immobile al grezzo e quindi permettere all'acquirente di furire il 110% perché il rogito è stato stipulato entro la scadenza dell'agevolazione il 191 dice semplicemente che siccome la norma di fatto riguarda interi edifici che vengono ristrutturati quindi edifici composti da varie unità immobiliari il 191 dice sostanzialmente ogni singolo acquirente può furire dell'agevolazione per il proprio unità immobiliare acquistata entro la scadenza senza dover aspettare per forza che tutti i lavori complessivi dell'edificio vengano conclusi quindi però fa riferimento comunque all'acquisto di una singola unità immobiliare conclusa per quanto riguarda il 688 invece quello più recente è il caso in cui nel sisma bonus acquisti l'attestazione di conformità degli interventi al progetto che il direttore dei lavori deve depositare nel SUAP viene depositato dopo il rogito l'agenzia dell'entrata risponde sì il decreto 58 del 2017 stabilisce che l'asseverazione deve essere contestuale mi dà un termine per la presentazione dell'asseverazione ma non mi dà un termine per la presentazione appunto dell'attestazione di conformità da parte del direttore dei lavori secondo me nessuno di questi due interventi sdogana la possibilità di acquistare un immobile non concluso e questo secondo me si legge molto semplicemente nel testo dell'articolo 16 dove dice che gli interventi devono essere eseguiti da imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare che provvedono entro 18 mesi adesso 30 dalla data di conclusione dei lavori alla successiva alienazione dell'immobile questa norma riguarda la vendita di immobili già esistenti già conclusi di unità immobiliare concluse perché nel momento in cui il legislatore Uniparla di alienazione alla successiva alienazione entro 30 mesi dalla conclusione vuol dire che l'oggetto del roggetto non può essere un immobile non concluso non può essere unità immobiliare al grezzo deve essere unità immobiliare conclusa quindi anche in questo caso ripeto però non ci sono interpelli pubblicati ma interpelli ma so che ci sono stati degli interpelli invece non pubblicati che comunque confermano questo cioè il roggetto deve riguardare case antisismiche in cui la ristrutturazione è stata conclusa non so se anche qui sono stata sufficientemente chiara perfetto sì parte la la complessità e soprattutto di questa specifica non esistenza di una di una certezza totale ecco le chiedo se velocemente riesce a accennarci sul fatto dello sconto di fattura anche per noi professori allora praticamente se riesce ad essere rapida la segre grazie assolutamente sì sì grazie allora praticamente qui mi si chiede se i professionisti possono fare lo sconto in fattura sì un tecnico ecco qua allora lo sconto in fattura e la cessione del credito la possono fare allora ovviamente la cessione del credito si fa nei confronti di qualcuno scusi noi vediamo una slide che non so se ok allora questo vediamo se arriviamo ok perfetto grazie allora vediamo un po' vabbè qui non c'è una specifica per questa domanda d'accordo allora comunque la risposta è sì il tecnico può fare lo sconto in fattura perché lo sconto in fattura lo può fare sostanzialmente qualsiasi contributo sotto forma di sconto poi mi si chiede come fa il tecnico a trovare il credito nel proprio cassetto fiscale beh il tecnico trova il credito nel proprio cassetto fiscale alla fine di una procedura che inizia appunto con la sottoscrizione dell'accordo di sconto ok l'invio della comunicazione all'agenzia delle entrate la comunicazione che sappiamo perché appunto ne avevamo già parlato e poi comunque ormai penso che queste sono cose consolidate viene inviata dal beneficiario o da un intermediario se si tratta di 110% o dall'amministratore di condominio ci vuole o non ci vuole il visto di conformità su queste cose soprassediamo cioè la differenza fra cessione di interventi super bonus e cessione non interventi super bonus ok quindi mettiamo che sia un intervento al 50% quindi non abbiamo bisogno di asseverazione il tecnico decide di fare lo sconto in fattura sottoscrivono l'accordo di sconto il beneficiario da solo nella sua procedura web nella propria autenticata dell'agenzia delle entrate quindi deve avere speed ormai perché sostanzialmente a parte le partite IVA ormai tutti accedono al sito dell'agenzia delle entrate con speed o la carta nazionale dei servizi e compila o la carta di identità elettronica e compila il format di gestione del credito ok i tempi sono questi perché mi si chiedeva anche dei tempi allora i tempi sono questi allora dopo che il beneficiario ha comunicato con la sua procedura web perché stiamo parlando appunto di un intervento non super bonus entro cinque giorni il beneficiario ha una ricevuta di presa in carico o di scarto se ci sono dei motivi di scarto ma la facciamo che va tutto bene ok quindi io oggi che è il 13 ottobre invio la comunicazione di cessione cessione o sconto perché in realtà il modello è lo stesso poi all'interno del modello avrò l'opzione per lo sconto o l'opzione per la cessione ok quindi io mando la comunicazione di sconto inserisco i miei dati i dati dell'intervento i dati del fornitore o del tecnico insomma del soggetto che mi ha concesso questo sconto inserisco tutti i dati e la invio entro cinque giorni io ottengo una ricevuta quindi entro il 18 ottobre ottengo la ricevuta di presa in carico è andato tutto bene io so che se mi accorgo di avere fatto degli errori ho tempo fino al 5 del mese successivo quindi ho tempo fino al 5 novembre per annullare o sostituire la pratica con una successiva cessione e lì finisce il mio tempo cioè se mi accorgo di errori io dopo il 5 novembre non posso fare più niente il tecnico visualizza questo credito nella piattaforma cessione crediti che è sempre all'interno dell'area riservata dell'agenzia delle entrate ok quindi i cessionari fornitori professoresi o terzi visualizzano i crediti ricevuti ovviamente dopo il 5 del mese successivo visto che fino al 5 il credito è ancora o lo sconto è ancora nella mia disponibilità quindi sostanzialmente normalmente tra l'8 il 9 il 10 del mese successivo questo credito viene messo a disposizione alla visualizzazione del fornitore o del professionista in un'apposita area se riservata in un'apposita sezione dell'area riservata dell'agenzia delle entrate che si chiama piattaforma cessione crediti questo è la visualizzazione della piattaforma cessione crediti quindi il nostro tecnico che ha concesso lo sconto dal 10 novembre visto che io ho comunicato oggi 13 se va tutto bene dal 10 novembre potrà visualizzare nella piattaforma cessione crediti il suo credito non visualizza solo questo visualizza molti altri tipi di crediti se ne ha diritto lo può accettare una volta accettato o rifiutare questa è una cosa che raccomando non solo il beneficiario deve controllare di aver compilato bene la pratica perché dopo il 5 del mese successivo non ne ha più il controllo e il credito ceduto è disponibile al terzo ma anche al cessionario di controllare per bene la correttezza del credito che ha ricevuto quindi con il codice che individua l'intervento in maniera corretta la suddivisione la correttezza non si indica con l'attivamento come in cui è tutto a posto accetta il credito se non è a tutto a posto lo rifiuta se lo rifiuta si ricomincia da capo in qualsiasi momento può essere riceduto dentro il termine ovviamente previsto nel momento in cui lo accetta lo può subito cedere quindi lo può monetizzare immediatamente sempre da 10 del mese successivo vendendolo magari una banca se invece ha intenzione di spenderlo in compensazione in F24 deve aspettare il primo gennaio dell'anno dopo perché i crediti sostanzialmente possono essere spesi nello stesso numero di rate in cui spettava la detrazione al primo beneficiario ma per spenderlo dovrà aspettare il primo gennaio ok quindi questo è il percorso che fa il nostro credito o sconto che poi dal punto di vista del professionista o del tecnico diventa un credito appunto quindi tutta la procedura avviene nella piattaforma cessione crediti può essere accettato può essere ceduto a sua volta oppure può essere tenuto e utilizzato se voglio cedere lo posso cedere dal 10 del mese successivo previa accettazione se lo voglio spendere in compensazione in F24 devo aspettare il primo gennaio dell'anno successivo la cessione può essere fatta o lo sconto scusate lo sconto non la cessione per una altra cosa può essere fatta anche dai forfettari non c'è nessun problema a riguardo molto semplicemente sarà diversa la compilazione della fattura perché il provvedimento sulla cessione del credito si è anche preoccupato di spiegare più o meno come deve essere compilata la fattura elettronica per tutti i professionisti anche cartacea per i forfettari quindi sicuramente sì anche i forfettari possono fare lo sconto in fattura per quanto riguarda la data della fattura allora questo qui viene non so se era qui o un'altra domanda mi viene citata la circolare 30 dove più o meno è stata fatta una domanda del genere la risposta è effettivamente ammetto piuttosto critica perché dice vabbè in ogni caso tu devi seguire le regole generali caso che pensa a seconda che sei un privato oppure un'impresa secondo me la domanda qui è diversa nel momento in cui ho una fattura a fronte di un corrispettivo zero perché mettiamo che la detrazione è al 110% e quindi io sostanzialmente ho zerato tutto il corrispettivo quindi un pagamento di un corrispettivo non c'è e non c'è neanche il versamento dell'IVA visto che sono in regime forfettario altrimenti sarebbe quello il momento in cui si perfeziona di fatto questo sconto quindi posso considerare che il pagamento del corrispettivo è quando devo pagare al mio professorista l'IVA perché l'IVA comunque va pagata ok cioè quando lui pagherà l'IVA all'erario d'accordo perché in ogni caso lo sconto incide anche su l'IVA però l'IVA comunque va pagata all'erario allora mi si dice ma qual è la data che devo indicare la fattura visto che non c'è un pagamento di un corrispettivo allora a prescindere dal fatto che dal punto di vista IVA la fattura può essere emessa anche prima del pagamento del corrispettivo quindi io posso anche emettere una fattura mettendo la data di emissione della fattura stessa ok perché questo lo prevede il testo unico IVA ma direi che il pagamento del corrispettivo avviene di fatto tramite sempre la sostituzione dell'accordo di sconto perché il professionista in quel momento ha accettato di avere le sue prestazioni pagate tramite l'acquisto di questa detrazione di questo credito quindi in mancanza di indicazione sono possiamo appunto come dire far coincidere il momento del pagamento del corrispettivo con il momento in cui il beneficiario ha ceduto al professionista il proprio credito quindi alla data dell'accordo emettiamo la fattura giusto? sì esatto ecco scusi se l'ho interrotta cercavo un po' perché purtroppo abbiamo dei tempi tecnici anche per chiudere ecco penso che comunque ripeto questo ripeto è un principio che si estrapola soprattutto dal stesso unico IVA ma non ci sono indicazioni precise quindi eventualmente anche in questo caso un chiarimento ufficiale non è sbagliato chiederlo io vi ringrazio io vi ringrazio ringrazio la dottoressa Silvana Di Marcello e la dottoressa Elisa Favaron nonché l'ingegner Domenico Prisinzano io spero che tutte le risposte che abbiamo ascoltato siano state esaurienti almeno in parte ma non tutti sono soddisfatti per i più coraggiosi adesso c'è una breve clip dell'onorevole Paolo Paternoster che ci ha inviato quindi se volete si conclude con questa clip direi buongiorno a tutti grazie dell'invito e complimenti per la per la vostra iniziativa un ringraziamento in particolare quindi all'ordine degli ingegneri di Verona con il presidente Andrea Farsirollo parliamo in questi giorni di Superbonus e nello specifico del Superbonus 110% e quindi il quesito che voi avete posto per queste giornate di lavoro è il Superbonus 110% un anno dopo è giusto fare anche un po' un bilancio di quello che è successo nell'ultimo anno con un provvedimento così importante che non si è mai registrato prima per verificare se le risorse governative che sono state stanziate tanti soldi sono stati stanziati sono andati a buon fine cioè se questi sacrifici questi soldi questi fondi questi finanziamenti poi nella realtà giornaliera della nostra economia sono stati efficaci per rilanciare il settore da una parte per rilanciare la nostra economia e poi anche per verificare bene se chi ha avuto il beneficio di questi finanziamenti di questi bonus hanno avuto appunto un risultato positivo beh io direi che in prim'ordine vedendo le gru non le grandi gru edili ma le gru che sono state impiantate nelle abitazioni al di fuori delle abitazioni e nei piccoli cantieri che hanno un po' disseminato tutta la nostra penisola nell'ultimo anno e sono veramente tante potrei dire che come provvedimento come bonus è stato un bonus azzeccato cioè che sono nati tantissimi cantieri c'è stato un volano per l'economia veramente importante creando occupazione creando quindi indotto e creando poi dall'altra parte un gettito fiscale importante perché comunque se da una parte lo Stato ha investito risorse considerevoli per i super bonus del 110% dall'altra parte possiamo dire anche che ha creato un indotto economico sicuramente altissimo tanto è vero che oggi l'Italia come dicevo in poc'anzi è disseminata di tantissimi cantieri che vanno proprio nel segno di questo super bonus cioè dell'efficientamento energetico come peraltro si è chiesto l'Europa allora cosa si può dire si può dire che è stato un provvedimento azzeccato si può dire che è stato un provvedimento che ha aiutato l'economia tanto è vero che il 5,8% di aumento del PIL per il 2021 tanto è dovuto anche a questo tipo di provvedimento è un provvedimento però molto costoso e quindi quello che mi sento di dire che è un investimento importante da parte del governo fatto nel 2021 lo sappiamo bene che per certe categorie al momento durerà fino al 30 giugno del 2022 per altre fino al 31-12 del 2022 in questi giorni la domanda che ci chiedono le categorie è se questo provvedimento sarà replicato anche nel 2023 e negli anni negli anni seguire ce lo chiedono secondo me per due motivazioni principali uno perché appunto è un provvedimento azzeccato un provvedimento che ha creato lavoro che ha creato quindi occupazione che ha creato gettito fiscale a favore dello Stato e quindi un provvedimento da replicare dall'altra parte purtroppo devo dire che questa domanda ci viene anche posta perché siamo in Italia e sappiamo come vanno o come non funzionano le cose in Italia questo provvedimento purtroppo è stato un po' frenato gli effetti positivi di questo provvedimento parlo da una eccessiva burocrazia che legge impone per appunto usufruire del suo beneficio e quindi tante volte ci dicono abbiamo mesi e mesi di scartoffie con relativi costi burocratici che appesantiscono appunto questi interventi e poi abbiamo dei mesi di lavoro che non ci consentono di rientrare nei tempi previsti dall'attuale legge quindi 30 giugno 2022 verrà replicato anche nel 2023 questa come dicevo è una domanda che ci viene posta e beh allora a sentire dalle dichiarazioni del ministro del ministro Franco il quale ha detto recentemente che è un provvedimento che costa ma che comunque dovrà essere necessariamente replicato anche per l'anno successivo nel 2023 verrà replicato nel 2023 così come è stato fatto per il 2021 e per il 2022 poi non si sa bene se il 2024 e gli anni successivi avranno lo stesso lo stesso lo stesso trattamento noi noi come Lega lo spieghiamo perché ribadisco che tolta la burocrazia che è un peso fondamentale e molto gravoso per gli uffici che devono sbrigare queste pratiche prima di avviare i cantieri è un provvedimento sicuramente azzeccato e quindi noi avevamo anche chiesto di estenderlo anche altri tipi di immobili cioè gli immobili commerciali gli immobili a uso alberghiero e quant'altro questa probabilmente è una richiesta che il governo non ci accoglierà però se fosse per noi come Lega lo allargheremo anche ad altri tipi di immobili perché ribadisco la necessità di realizzare l'efficientamento energetico non è solo per le abitazioni ma è per altre molte altre tipologie di immobili questo sarà comunque il 2022 ci sarà sicuramente il 2023 è l'impegno del governo a reperire quelle risorse fondamentali nella legge di bilancio che appunto daranno la possibilità di estenderlo anche per l'anno per l'anno successivo ad oggi comunque abbiamo il 2022 ma la nostra promessa come Lega il nostro impegno come Lega sarà quindi quello di replicarlo replicarlo come? beh sappiamo bene adesso che ci sono delle così come si può dire delle aliquide il 50% il 65% il 90% il 110% io non penso che il governo intenda variare per il 2023 questi tipi di interventi cioè gli incentivi questi ecobonus che sono già validi per il 2022 saranno validi sia dal punto di vista economico e anche dal punto di vista strutturale cioè mantenendo le attuali aliquide perché sarebbe poco positivo per quanto ci riguarda una riorganizzazione solamente per l'ultimo anno 2023 in questo caso il che andrebbe a come si può dire andrebbe a modificare l'attuale l'attuale incentivazione creando problemi burocratici a tutti quegli uffici tecnici che oggi sono impegnati a sbrigare le pratiche forse per noi avremmo tolto la burocrazia al 100% in modo che oggi pensi l'idea domani parli con gli uffici tecnici competenti i privati gli ingegneri gli architetti tutti quelli che possono contribuire a impiantare il cantiere dopo domani inizia il cantiere questo è quello che noi vorremmo purtroppo però sappiamo che non è sempre così abbiamo bisogno di semplificazioni normative queste sono all'ordine del giorno è il nostro pressing nei confronti del governo affinché questi bonus così importanti per la nostra economia siano finalmente alleggeriti di una burocrazia asfissiante che fino a questo momento ha fatto sì che questi investimenti governativi abbiano sì come dicevo prima un'efficacia importante ma potrebbero averne molto di più la nostra attenzione in questo senso sarà totale la nostra attenzione sarà quella anche di replicare negli anni successivi questi tipi di incentivazioni fiscali perché comunque con l'aiuto dei soldi che ci arrivano dall'Europa con i recovery questi famosi 250 miliardi che ricordo non sono tutti regalati perché per i due terzi devono essere restituiti comunque possono finanziare anche per gli anni seguire questo tipo di incentivazione quindi efficientamento energetico lo Stato che ti aiuta per sistemarti le tue le tue abitazioni meno burocrazia ed è questa la nostra risposta per avere sì un PIL che cresce come quest'anno ma noi vogliamo che cresca in maniera considerevole anche per i prossimi anni perché quello che abbiamo subito l'anno scorso ce li ricordiamo bene con la pandemia è qualcosa di inverosibile e che non deve più capitare perché l'abbiamo detto in più in più occasioni la pandemia sanitaria l'anno scorso è stata seguita da una pandemia economica che purtroppo ha lasciato dei segni irreversibili sulla nostra economia e anche sul nostro tessuto sociale detto questo io concludo il mio intervento auguro buon lavoro a tutti i convenuti e se ci sono delle qualsiasi perplessità qualsiasi bisogno la Lega è sottoscritto con tutti i miei colleghi parlamentari siamo a vostra disposizione grazie e buon lavoro noi vogliamo essere più felici io direi che la giornata è stata intensa chiedo solo se l'ingegner Falsirollo vuole trarre due parole di conclusione così per chiudere in bellezza questo convegno e anticipo il ringraziamento a tutti quelli che hanno partecipato allora siete rimasti comunque ancora in tanti il contributo degli enti avete visto è stato comunque interessante so che alcuni di voi si sono espressi dicendo che comunque le risposte sono state alcune un po' evasive però evidentemente se non ci fosse questo problema non saremmo neanche qui a parlarne si sapeva già speriamo che comunque l'assetto normativo andando avanti migliori e trovi delle risposte più specifiche a domande specifiche come avete visto all'inizio anche ai politici abbiamo posto una domanda molto chiara cioè quello di trovare comunque un assetto normativo per i prossimi incentivi che sia che aiuti un po' di più anche il nostro lavoro perché evidentemente non può essere che l'80% del nostro lavoro sia rivolto a capire come sfruttare questi incentivi come adoperarli ed evitare eventuali conseguenze perché solitamente diciamoci la verità abbiamo la copertura assicurativa ma non deve essere una copertura assicurativa che va a coprire danni di questo tipo noi lavoriamo ma non per rischiare lavoriamo perché mettiamo le nostre competenze non perché la normativa è chiara e quindi quando la normativa è chiara dobbiamo avere un'assicurazione che risponda ecco diciamo che il legislatore sapendo che forse poteva esserci questo problema ha predisposto l'obbligo in questo senso della copertura assicurativa ecco però questo non è un bel modo di procedere e il titolo del convegno e gli argomenti affrontati oggi erano proprio per evitare e aiutare in tal senso evitare di usare il meno possibile l'assicurazione e trovare soluzioni giuste e corrette questo diciamo è la sintesi e la conclusione che è un auspicio che il legislatore lavori in questo senso facendoci lavorare con meno assicurazione e più conoscenze e competenze che sappiamo mettere in campo e che non lesiniamo mai di farlo anche quando la legislazione non è così chiara e devo fare bisogna fare i complimenti a chi lavora in questo campo perché effettivamente lavorare in questo contesto con questo setto normativo ci vuole coraggio ottimo grazie a tutti grazie grazie a tutti grazie a tutti